Crediamo nel gioco di squadra, crediamo nel valore delle persone, crediamo nelle consulenze mirate e nelle soluzioni pensate su misura, crediamo nel valore della responsabilità e sostenibilità delle proprie scelte. Fai gol con FinContinuo. Per raggiungere i tuoi sogni non ti resta che crederci. FinContinuo, il prestito dei campioni. FinContinuo, il prestito dei campioni. Oltre 70 super ospiti, rappresentanza delle maggiori banche, compagnie e società attive nel mercato del credito italiano. 12 talk show, decine di interviste per più di 14 ore di diretta streaming. Tutto in due giorni in cui si è parlato di presente e futuro del business sono i numeri del Leadership Forum TV Show 2023 di EMF Group, seguito in esclusiva da PLTV, in onda sulla piattaforma online dell'evento e per la prima volta anche sul digitale terrestre e sul canale 63 di GM24. Sella Personal Credit Platinum Sponsor di dibattiti e conversation attorno ai risultati raggiunti da istituti mediatori broker, i loro prodotti e servizi e gli obiettivi per l'anno in corso per il settore dell'accessione del quinto e del mondo dei prestiti in generale. Sul sito tutte le videoclip con le discussion e le interviste ai protagonisti dell'evento. Bentornati, apriamo di nuovo il collegamento perché questo pomeriggio sarà ancora pieno di eventi, di notizie che vi daremo, che condivideremo con voi e per iniziare apriamo subito il collegamento con Fabrizio Papi. Benvenuto Fabrizio, a te subito la prima domanda. Come si è svolta l'attività, la vostra attività nel 2022, l'attività di Today, del gruppo Today e che programmi avete per il 2023? Grazie, grazie per la domanda Enrico. Il 2022 è stato un anno che ancora sentiamo tutti noi perché essendo trascorso solamente un mese dal termine dell'anno è ancora forte la pressione che sentiamo su di noi, anche in funzione del fatto che comunque siamo già ripartiti alla grande. Il 2022 è stato un anno di consolidamento. Come tu pensai, il nostro rapporto con CF si è fortemente consolidato in questo anno. Ci ha permesso di ottenere dei risultati di grande importanza in termini numerici e nello stesso tempo ci ha permesso di consolidare ulteriormente nuove partnership e di rafforzare tutte le linee strategiche in termini di capacità attruttiva e di condizioni astruttive e quindi di apertura al mercato che ci hanno permesso di migliorare performance e risultati. Abbiamo quest'anno finalmente aperto al mercato della CQP. Nel 2022 siamo partiti seppure in sordina ma abbiamo recuperato velocemente Terreno ottenendo degli importanti e considerevoli i risultati adottando una tariffa senza Tegra Nerm Lighting, quindi una tariffa fortemente competitiva e devo dire anche, stante i numeri che sta cominciando a produrre, anche di grande soddisfazione per i nostri partner. Il 2023 è già partito all'insegna di interessanti novità, interessanti novità per quanto riguarda il fronte CF che ci vede particolarmente protagonisti nel rapporto forte che ci lega a questa impresa, a questa azienda e forte dei numeri che esprimiamo all'imperno della stessa. Abbiamo deciso già dei primi giorni dell'anno di condividere un percorso di rinnovamento e di innovazione nell'ambito delle convenzioni e dei processi che ci dovranno portare ad avere utilizzazioni nei tempi procedurali che sono da sempre uno degli elementi portanti del rapporto impresa assicurativa-impreso-banca finanziaria, unita a delle condizioni che siano sempre più in linea con le aspettative e le esigenze di un mercato che diventa sempre più difficile, sempre più competitivo e con i vari scenari sia legati ai tassi di interesse che alle vicende di cui tutti siamo a conoscenza, verranno particolarmente attenti e particolarmente attenti al mondo bancario e finanziario nei confronti di quelle che saranno le componenti tecniche assuntive e finanziarie che il mercato assicurativo saprà e non la offrire. Inoltre nel 2023 siamo pronti ad entrare sul mercato anche con qualche altra interessante novità che è prematuro svelare perché ancora non ci sono i presupposti per poterne parlare, però siamo convinti che il gruppo Today accrescerà ulteriormente la propria presenza nel ruolo di TPA e di broker agente nei confronti delle società rappresentate offrendo nuove e interessanti novità sia nella CQP che nella CQS che potranno finalmente così dare il giusto. Assolutamente sì, ti ringrazio per la domanda perché forse così chiarire un attimino questo passaggio può essere utile a tutti. Noi abbiamo scelto di lavorare su un prodotto molto attrativo senza il Terapea Redding, ma mi vuoi spiegare meglio? Perché a voi non mi piace utilizzare il Terapea Redding. Il mondo, cioè la copertura assicurativa temporanea caso morte, che di fatto la copertura a base della prestazione viene fatta sulla base di un'anamnesi patologica o comunque di un'indagine che la compagnia svolge per poter poi tarifare e assumere il rischio. Nel mondo della malattiazione sappiamo perfettamente che questo viene fatto in maniera molto più, meno così profonda nel normale del caso assicurativo, ma il vero contratto di assicurazione non prevede certo un'ispezione preventiva. Quindi nella mia natura di assicuratore, vero, tradizionale, il Terapea Redding è una forzatura che non ho mai condiviso, ma è una mia personalissima opinione tecnica. Noi abbiamo scelto questo perché riteniamo che la copertura assicurativa, senza dell'andertica, venuta a dei partner con i quali si condivide il percorso e si fanno delle analisi di valutazione ben precise su cosa si vuole fare, cosa si vuole ottenere da questo rapporto professionale, può portare dei risultati estremamente vantaggiosi. E con una convenzione ben scritta, una convenzione che non lascia traccia di equivoci in quello che si vuole fare assieme e dove il confine che deve esistere nella convenzione, ciò che può generare conflitto o meno, deve essere alla base del rapporto. Quindi la chiarezza e la trasparenza, se trasformate in testo di convenzione, possono assolutamente dare tranquillità al partner e la tariffa senza per l'andertica è sicuramente una tariffa e una condizione assuntiva di Salma Guardi. Grazie a Fabrizio Papi, grazie per questa interessante conversation che abbiamo fatto e adesso apriamo la successiva conversation con Franco Frau, col piacere di incontrare Franco Frau, consigliere esecutivo di B&S e fondatore di Frau & Partner. Credo che l'hai fondata col cognome anche la... Assolutamente. Quindi... Fondata nel 1994. Caspita. Non nata per l'accessione del quinto. Non nata per l'accessione del quinto. Non nata per l'accessione del quinto. Interessante questo, perché bisogna avere la capacità di cambiare e aggiornare il proprio business continuamente. Se vuoi ti dico anche, è nata per la gestione di rischi finanziari, quindi con delle special tese per banche, quindi ci siamo occupati per... Fino al 2010, se vuoi, di assicurare le banche per tutti i rischi puri delle banche. Ah, caspita, avete cambiato completamente. Sì, per casi della vita, tanto si cambia. È la capacità di cambiare che denota la differenza. Detto questo, però, ahimè, o per tua fortuna, ci tocca parlare di cessione del quinto, perché questa è la sessione, in questo convegno si parla, in questo tv show si parla di cessione del quinto e in questo contesto, così, anche facendo a lattere una chiacchierata con te, è venuto fuori che il 2022 è stato un anno molto impegnativo, però proficuo e positivo anche per certi versi. Mi vuoi commentare? Lo possiamo dire oggi, perché sicuramente la vendita delle due compagnie del gruppo Viva ci hanno lasciato un attimo spiazzati, quindi a fine 2021 evidentemente noi non sapevamo come sarebbe andato a finire, perché non sapevamo se i nuovi azionisti avrebbero, diciamo, proseguito nel business sessione oppure no. Fra l'altro, diciamo, la suddivisione delle due compagnie tra Allianz e S&P, quindi compagnia francese, evidentemente ha creato qualche scompenso. Quindi abbiamo lavorato con loro all'inizio per vedere se si poteva dare un continuum a questa cosa, però non sapevamo effettivamente quali sarebbero state le loro intenzioni, che cosa avrebbero deciso di fare in un settore che sia i francesi di S&P sia Allianz, di fatto non conoscevano. Mi pare che sia stato positivo il riscontro. No, il riscontro è stato positivo, si è chiaramente deciso di continuare, abbiamo trovato un accordo, noi sempre, diciamo, nell'ottica di dare un servizio molto, diciamo, efficiente e qualitativo ai nostri clienti, perché poi di base questo è, quindi noi abbiamo sempre puntato alla semplificazione e al servizio, cosa che il mercato oggi ci riconosce e diciamo che il ritorno del mercato, che comunque per noi significa la maggioranza del mercato, in quanto abbiamo circa 30 istituti finanziari, i nostri clienti, quindi che è la stragrande maggioranza del mercato cessione, quindi questo ci tranquillizza. Dopodiché se vuoi sapere com'è andata dopo, se vuoi te lo racconto. Beh, questo però è relativo alla storia del 2023 oppure fine del 2022? No, questa è la storia del 2022. Il 2022 è stato l'anno degli approfondimenti e si sono presentate le occasioni per implementare chiaramente gli accordi di collaborazione e quindi i prodotti. Quindi abbiamo lavorato sicuramente non meno di dieci mesi sui prodotti e su questi accordi per poi arrivare a fine 2022 con oggi, con diciamo un bouquet prodotti che era impensabile un anno fa, voglio dire, quindi questo è il risultato. Potesse fare di più, segnare la vostra paga nei documenti di identità per acquisti fino a 500 euro. Tu incassi subito, senza rischi, per te sono vantaggi. No, gli accordi oggi noi ci presentiamo sul mercato, così anche il tuo cliente ha pagato, grazie al tuo smartphone banca sella e ad appago. Pagamento dilanzionato, acquisto assicurato. Chiaramente hanno prodotto un risultato, un peso importante. Quindi noi continuiamo a offrire questo servizio totale ai clienti, quindi ci preoccupiamo di seguire tutto il business a 360 gradi e oggi ci ritroviamo appunto ad aver inserito, ad aver implementato i rapporti con Allianz che non aveva mai deciso di entrare... Per essere una compagnia assicurativa significa mettere al centro il valore di ogni singolo cliente. CF significa credito e famiglia, da sempre i nostri pilastri. Ed è per questo che noi del gruppo CF Assicurazioni mettiamo al centro la serenità delle famiglie italiane e non ci stanchiamo mai di migliorare. Siamo una realtà dinamica, nata da valori comuni, che ogni giorno si impegna per garantire nuove opportunità e nuovi processi produttivi. Siamo in continua evoluzione per essere competitivi. Siamo veloci per affrontare le sfide di tutti i giorni. Siamo digitali per non lasciare le opportunità alle spalle e per migliorare la vita dei nostri intermediari. Siamo trasparenti perché operiamo ispirati da principi di legalità e correttezza. Siamo fatti di storia, ma viviamo già nel domani. Sosteniamo con professionalità i nostri clienti e la nostra rete di vendita perché la loro serenità è il nostro obiettivo. Io posso dire che per me i clienti, al di là delle dimensioni, evidentemente sono tutti uguali. Voglio dire, quindi va bene tutti e tutti seguono più o meno le stesse... Sessionati, dipendenti pubblici, privati... Sì, se tu parli degli istituti finanziari non trovo differenza, nel senso che poi c'è chi spinge di più e chi spinge di meno. È evidente che i piccoli istituti hanno un problema di funding, che non hanno di grosse e grosse banche e c'è questa differenza. Però in realtà, voglio dire, tutti cercano di occupare gli spazi di mercato che possono. Oggi vediamo un mercato che è molto vincolato e appoggiato alle reti per cui poi c'è questo anche interscambio di agenti che si spostano da un istituto all'altro e quindi è un mercato molto, diciamo, amalgamato e che non fa grosse differenze. Poi si vedrà adesso il futuro, perché sicuramente il futuro, per un servizio utile, probabilmente porterà delle modifiche di mercato, però poi questo lo vedremo. Ma se io ti chiedessi un'idea, un'idea non posso chiederti cosa sarà, perché il futuro non lo saprà prevedere nessuno, però un'idea di come proseguiranno questi accordi con il gruppo Sempe, con Allianz e con Genertel. Dov'è che tu vedi le migliori prospettive? Se le vedi? Allora, per quanto riguarda Sempe, è il più grosso gruppo Life francese, ovviamente in questo momento guarda con attenzione il mercato, non ha mai fatto cessione, si trova un prodotto nuovo, quindi è evidente che in questo momento Sempe crediamo nelle consulenze mirate e nelle soluzioni pensate sui misi. Crediamo nel valore della responsabilità e sostenibilità delle proprie città. Genertel c'era già, non aveva, diciamo, occupato uno spazio di mercato interessante, non entriamo nel merito, il prestito dei campi. Non avrebbe nessun senso, però sì, è dal 2019 che c'è Genertel, però di fatto non l'abbiamo mai, tu poi conosci molto bene le statistiche, che non l'abbiamo mai più o meno vista, noi speriamo evidentemente di avere una, di fare un EGVA e quindi di ottenere un risultato esattamente superiore su questo studio e con Alias è la stessa cosa, quindi i due brand non hanno problemi di sorta, la filosofia comunque è la nostra, nel senso che per quanto riguarda la parte della gestione dei prestiti, di tutto quello che viene indietro, perché poi noi forse come struttura ci differenziamo dagli altri, perché noi copriamo a 360 gradi tutte le attività che servono per supportare i clienti, di fatto, perché non ci siano problemi, non ci siano… ed è chiaro che andando sull'innovazione e sulla semplificazione questo aiuta molto, perché non sono le tariffe che contano, adesso io qui non voglio neanche dare dei supporti ai concorrenti, comunque la tariffa che deve comunque essere una tariffa profittevole per gli assicuratori, perché se no gli assicuratori scappano, questo l'abbiamo visto negli anni, quindi non è sufficiente avere la tariffa più bassa, perché abbiamo delle compagnie con tariffe molto basse che però non fanno il mercato, quindi conta molto. Sella Personal Credit presenta Appago Caro esercente, hai mai pensato cosa succederebbe se lo SmartPos Banca Sella che hai già potesse fare di più per i tuoi clienti? Da oggi Appago è lo strumento che ti permette di offrire ai clienti pagamenti leggeri con una procedura semplice e snella. Se hai già uno SmartPos Banca Sella, non ti servono altri POS e non raddoppi il tuo canone. Basta l'app. Potrai proporre ai tuoi clienti di dilazionare gli acquisti fino a 12 mesi, senza interessi, senza dover presentare la busta paga, né i documenti di identità per acquisti fino a 500 euro. Tu incassi subito, senza rischi, per te solo vantaggi. Così anche il tuo cliente ha pagato, grazie al tuo SmartPos Banca Sella e ad Appago. Pagamento dilazionato, acquisto assicurato. Essere una compagnia assicurativa significa mettere al centro il valore di ogni singolo cliente. CF significa credito e famiglia. Da sempre i nostri pilastri. Ed è per questo che noi del gruppo CF Assicurazioni mettiamo al centro la serenità delle famiglie italiane e non ci stanchiamo mai di migliorare. Siamo una realtà dinamica, nata da valori comuni, che ogni giorno si impegna per garantire nuove opportunità e nuovi processi produttivi. Siamo in continua evoluzione per essere competitivi. Siamo veloci per affrontare le sfide di tutti i giorni. Siamo digitali per non lasciare le opportunità alle spalle e per migliorare la vita dei nostri intermediari. Siamo trasparenti perché operiamo ispirati da principi di legalità e correttezza. Siamo fatti di storia, ma viviamo già nel domani. Sosteniamo con professionalità i nostri clienti e la nostra rete di vendita perché la loro serenità è il nostro obiettivo. Signora Giorgini, l'avevo scossa? L'auto mi ha abbandonata, però ne ho appena visto una nuova tutta elettrica. Ma come faccio? Va dalla Compass. Dovrò andare a piedi per un po'. Un giorno. Da Compass per un prestito basta un giorno. Tu prestito di così? Vieni in filiale. Da Compass per un prestito basta un giorno. Vieni in filiale. Ful contest. All the facts. With clarity and confidence. So organisations and the people they rely on are protected and able to grow. Aon is in the business of better decisions. Crediamo nel gioco di squadra, crediamo nel valore delle persone, crediamo nelle consulenze mirate e nelle soluzioni pensate su misura, crediamo nel valore della responsabilità e sostenibilità delle proprie scelte, fai gol con FinContinuo, per raggiungere i tuoi sogni non ti resta che crederci, FinContinuo, il prestito dei campioni. FinContinuo 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Buongiorno a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. il mondo. e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti. di altri. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a tutti. e 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 tutti. che. e tutti. e tutti. e tutti. che. e tutti. che. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. e tutti. che. e tutti. 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 che. che. e tutti. e tutti. e tutti. che. che. e tutti. si è. e tutti. che. e tutti. ci. e tutti. che. che. e. se. ti. tutti. e tutti. . e tutti. . . e tutti. . 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 Stufo di sentire le solite scuse dai tuoi clienti? Da oggi con Pagolite i tuoi clienti non hanno più scuse per non fare acquisti e tu incrementi le vendite. Pagolite è una dilazione di pagamento fino a 12 mesi senza costi aggiuntivi per i clienti e rischio di gestione del credito per te. Perché? Prodotti? Servizi? I clienti pagano con la semplicità di una carta. Senza costi in più, senza bisogno di liquidità sul conto o con tanti e soprattutto un po' per volta. Con Pagolite tu incassi subito e il magazzino gira più velocemente. I clienti saranno invogliati a fare più acquisti senza rinunciare a nulla e torneranno sempre da te per lo shopping. Con Pagolite le tue vendite crescono, lo scontrino medio è più alto e crei una nuova abitudine d'acquisto in negozio. Pagolite è una tecnologia 100% digitale, 100% semplice, 100% veloce. Fai tutto in cassa con lo smartphone, il tablet o il PC, una carta di pagamento e i documenti che il cliente porta sempre con sé, senza documento di reddito. Pagolite piace proprio a tutti, commercianti e clienti. Grazie a tutti. 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 e che i persone che hanno sforzato, sono proteggati e poter crescere. Aon è in negozio di decisioni migliori. Crediamo nel gioco di squadra. Crediamo nel valore delle persone. Crediamo nelle consulenze mirate e nelle soluzioni pensate su misura. Crediamo nel valore della responsabilità e sostenibilità delle proprie scelte. Fai gol con FinContinuo. Per raggiungere i tuoi sogni non ti resta che crederci. FinContinuo. Il prestito dei campioni. FinContinuo. 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 Oltre 70 super ospiti, rappresentanza delle maggiori banche, compagnie e società attive nel mercato del credito italiano, 12 talk show, decine di interviste per più di 14 ore di diretta streaming. Tutto in due giorni in cui si è parlato di presente e futuro del business sono i numeri del Leadership Forum TV Show 2023 di EMF Group, seguito in esclusiva da PLTV. In onda sulla piattaforma online dell'evento e per la prima volta anche sul digitale terrestre sul canale 63 di GM24. Sella Personal Credit Platinum Sponsor di dibattiti e conversation attorno ai risultati raggiunti da istituti mediatori broker, i loro prodotti e servizi e gli obiettivi per l'anno in corso per il settore della cessione del quinto e del mondo dei prestiti in generale. Sul sito tutte le videoclip con le discussion e le interviste ai protagonisti dell'evento. Bentornati, apriamo di nuovo il collegamento perché questo pomeriggio sarà ancora pieno di eventi, di notizie che vi daremo, che condivideremo con voi. Per iniziare, apriamo subito il collegamento con Fabrizio Papi. Benvenuto Fabrizio, a te subito la prima domanda. Come si è svolta l'attività, la vostra attività nel 2022, l'attività di Today, del gruppo Today e che programmi avete per il 2023? Grazie, grazie per la domanda Enrico. Il 2022 è stato un anno che ancora sentiamo su di noi, perché essendo trascorso solamente un mese dal termine dell'anno è ancora forte la pressione che sentiamo su di noi, anche in funzione del fatto che comunque siamo già ripartiti alla grande. Il 2022 è stato un anno di consolidamento. Come tu ben sai, il nostro rapporto con CF si è fortemente consolidato in questo anno, ci ha permesso di ottenere dei risultati di grande importanza in termini numerici e nello stesso tempo ci ha permesso di consolidare ulteriormente nuove partnership e di rafforzare tutte le linee strategiche in termini di capacità assolutiva e di condizioni assolutive e quindi di apertura al mercato che ci hanno permesso di migliorare performance e risultati. Abbiamo quest'anno finalmente aperto al mercato della CQP, nel 2022 siamo partiti seppure in sordina, ma abbiamo recuperato velocemente il terreno ottenendo degli importanti e considerevoli risultati, adottando una tariffa senza take underwriting, quindi una tariffa fortemente competitiva e devo dire anche, stante i numeri che sta cominciando a produrre, anche di grande soddisfazione per i nostri partner. Il 2023 è già partito all'insegna di interessanti novità, interessanti novità per quanto riguarda il fronte CF che ci vede particolarmente protagonisti nel rapporto forte che ci lega a quest'impresa, a quest'azienda e forte dei numeri che esprimiamo all'interno della stessa. Abbiamo deciso già nei primi giorni dell'anno di condividere un percorso di rinnovamento e di innovazione nell'ambito delle convenzioni e dei processi che ci dovranno portare ad avere utilizzazioni nei tempi procedurali che sono da sempre uno degli elementi importanti del rapporto impresa assicurativa-impresa-banca finanziaria, unita a delle condizioni che siano sempre più in linea con le aspettative e le esigenze di un mercato che diventa sempre più difficile, sempre più competitivo e con i vari scenari sia legati ai tassi di interesse che alle vicende di cui tutti siamo a conoscenza, verranno particolarmente attenti il mondo bancario e finanziario nei confronti di quelle che saranno le componenti tecniche assuntive e finanziarie che il mercato assicurativo saprà e dovrà offrire. Inoltre nel 2023 siamo pronti ad entrare sul mercato anche qualche altra interessante novità che è prematuro svelare perché ancora non ci sono i presupposti per poterne parlare, però siamo convinti che il gruppo Today accrescerà ulteriormente la propria presenza nel ruolo di TPA e di broker agente nei confronti delle società rappresentate offrendo nuove e interessanti novità sia nella CQP che nella CQS che potranno finalmente così dare il giusto assolutamente sì, ti ringrazio per la domanda perché forse così chiarire un attimino questo passaggio può essere utile a tutti. Noi abbiamo scelto di lavorare su una tariffa che non ha bisogno del Tera del Redding ma mi vuoi spiegare meglio perché a voi non mi piace utilizzare Tera del Redding? Il mondo, cioè la copertura sicurezza, la temporale caso morte, che è di fatto la copertura a base della prestazione viene fatta a base di un'anamnesi patologico, comunque di un'indagine che la compagnia svolge per poter poi tariffare e assumere il rischio. Nel modo della gestione sappiamo perfettamente che questo viene fatto in maniera molto più meno così profonda nel normale caso assicurativo, ma il vero contratto di assicurazione non prevede certo un'ispezione preventiva, quindi nella mia natura di assicuratore vero, tradizionale il Tera del Redding è una forzatura che non ho mai condiviso, ma è una mia personalissima opinione tecnica. Noi abbiamo scelto questo perché riteniamo che la copertura assicurativa senza dell'andertica è venuta a dei partner con i quali si condivide il percorso e si fanno delle analisi di valutazione ben precise su cosa si vuole fare, cosa si vuole ottenere da questo rapporto professionale può portare a risultati estremamente vantaggiosi. E con una convenzione ben scritta, una convenzione che non lascia traccia di equivoci in quello che si vuole fare assieme e dove il confine che esiste nella convenzione, ciò che può generare conflitto o meno deve essere alla base del rapporto, quindi la chiarezza e la trasparenza se trasformate in testo di convenzione possono assolutamente dare tranquillità al partner e la tariffa senza per l'andertica è sicuramente una tariffa, una condizione assuntiva di salvaguardi. Grazie a Fabrizio Papi, grazie per questa interessante conversation che abbiamo fatto e adesso apriamo la successiva conversation con Franco Frau, col piacere di incontrare Franco Frau, consigliere esecutivo di B&S e fondatore di Frau & Partner. Credo che l'hai fondata col cognome anche la... Assolutamente. Quindi... Fondata nel 1994. Caspita. Non nata per la cessione del quinto. Non nata per la cessione... Beh, è interessante questo, perché bisogna avere la capacità di cambiare e aggiornare il proprio business continuamente. Se vuoi, ti dico anche, è nata per la gestione di rischi finanziari, quindi con delle specialties per banche, quindi ci siamo occupati per, fino al 2010 se vuoi, di assicurare le banche per tutti i rischi puri delle banche. Ah, caspita, avete cambiato completamente. Sì, per casi della vita ogni tanto si cambia. E' la capacità di cambiare che denota la differenza. Detto questo, però, ahimè, o per tua fortuna ci tocca parlare di cessione del quinto, perché questa è la sessione, in questo convegno si parla, in questo tv show si parla di cessione del quinto e in questo contesto, così, anche facendo a latere una chiacchierata con te, è venuto fuori che il 2022 è stato un anno molto impegnativo, però proficuo e positivo anche per certi versi. Mi vuoi commentare? Lo possiamo dire oggi, perché sicuramente la vendita delle due compagnie del Gruppo Aviva ci hanno lasciato nati e venuti spiazzati, quindi a fine 2021 evidentemente noi non sapevamo come sarebbe andata a finire, perché non sapevamo se i nuovi azionisti avrebbero, diciamo, proseguito nel business sessione, oppure no, fra l'altro la suddivisione delle due compagnie tra Allianz e S&P, quindi compagnia francese, evidentemente ha creato qualche scompenso, quindi abbiamo lavorato con loro all'inizio per vedere se si poteva dare un continuum a questa cosa, però non sapevamo effettivamente quali sarebbero state le loro intenzioni, che cosa avrebbero deciso di fare in un settore che sia i francesi di S&P sia Allianz di fatto non conoscevano. Mi pare che sia stato positivo il riscontro. No, il riscontro è stato positivo, si è chiaramente deciso di continuare, abbiamo trovato un accordo, noi sempre, diciamo, nell'ottica di dare un servizio molto, diciamo, efficiente e qualitativo ai nostri clienti, perché poi di base questo è, quindi noi abbiamo sempre puntato alla semplificazione e al servizio, cosa che il mercato oggi ci riconosce e diciamo che il ritorno del mercato, che comunque per noi significa la maggioranza del mercato, in quanto abbiamo circa 30 istituti finanziari ai nostri clienti, quindi che è la stragrande maggioranza del mercato cessione, quindi questo ci tranquillizza. Dopodiché se vuoi sapere com'è andata dopo, se vuoi te lo raccontano. Beh, questo però è relativo alla storia del 2023 oppure fine 2022? No, questa è la storia del 2022. Il 2022 è stato l'anno degli approfondimenti e si sono presentate le occasioni per implementare chiaramente gli accordi di collaborazione e quindi i prodotti. Quindi abbiamo lavorato sicuramente non meno di 10 mesi sui prodotti e su questi accordi, per poi arrivare a fine 2022 con oggi, con diciamo un bouquet prodotti che era impensabile un anno fa, quindi questo è il risultato finale. Quindi assolutamente, estremamente proficuo il 2022 con i risultati finali. Ecco, però vorrei che tu svelassi tutti questi accordi che avete fatto. No, gli accordi oggi noi ci presentiamo sul mercato con la S&P, in continuo con il passato, che comunque rappresenta un portafoglio, uno stock molto importante perché sette anni di Aviva chiaramente hanno prodotto un risultato nottevole, un peso importante. Quindi noi continuiamo a offrire questo servizio totale ai clienti, quindi ci preoccupiamo di seguire tutto il business a 360 gradi e oggi ci ritroviamo appunto ad aver inserito, ad aver implementato i rapporti con Allianz che non aveva mai deciso di entrare come vita nella sessione del quinto, si è trovato un Allianz Viva che è l'acquisizione veramente dell'ex Aviva d'anni. Quindi è stato anche un po' facile implementare e seguire anche il discorso per completare chiaramente tutti i prodotti, sia pensionati che dipendenti e inoltre, anche lì, sono casi della vita, si è presentata l'occasione di inserire anche il gruppo Genertel. Quindi noi dall'1 di gennaio siamo partiti anche con il gruppo Genertel e devo rispondere a una domanda che mi faresti, rispondo prima io, perché tu mi farei, diceva, e come fai con tre compagnie? A parte che non siamo gli unici a avere più di un partner assicurativo, ovviamente i prodotti non sono uguali, sono prodotti che si differenziano, quindi hanno caratteristiche diverse, questo per andare a coprire più mercato, perché questo è un po' il discorso. Anche il target di clientela è diverso a seconda delle compagnie o è lo stesso? Allora, qui c'è una questione di opinioni personali, io posso dire che per me i clienti, al di là delle dimensioni, evidentemente sono tutti uguali, voglio dire, quindi va bene tutti e tutti seguono più o meno le stesse regole. Appensionati, dipendenti pubblici, privati. Sì, se tu parli di istituti e degli istituti finanziari non trovo differenza, nel senso che poi c'è chi spinge di più e chi spinge di meno, è evidente che i piccoli istituti hanno un problema di funding, che non hanno le grosse banche e quindi c'è questa differenza, però in realtà voglio dire, tutti cercano di occupare gli spazi di mercato che possono, quindi questo è il discorso. Oggi vediamo un mercato che è molto vincolato e appoggiato alle reti, per cui poi c'è questo anche interscambio di agenti che si spostano da un istituto all'altro e quindi è un mercato molto amalgamato e che non fa grosse differenze. Poi si vedrà adesso il futuro, perché sicuramente il futuro per una serie di motivi probabilmente porterà delle modifiche di mercato, però poi questo lo vedremo. Ecco, ma se io ti chiedessi un'idea, un'idea non posso chiederti cosa sarà, perché il futuro non lo sa prevedere nessuno. Però un'idea di come proseguiranno questi accordi con il gruppo Sempe, con Allianz e con Genertel, dov'è che tu vedi le migliori prospettive? Se le vedi? Allora, per quanto riguarda Sempe è il più grosso gruppo life francese, ovviamente in questo momento guarda con attenzione il mercato, non ha mai fatto cessione, si ritrova un prodotto nuovo, quindi è evidente che in questo momento Sempe, potremmo dire che continua in modo soft, stando un pochino alla finestra, questo è un po' il discorso. Ovviamente le altre due compagnie, lo ha Genertel c'era già, non aveva occupato uno spazio di mercato interessante, non entriamo nel merito, perché non avrebbe nessun senso, però è dal 2019 che c'è Genertel, però di fatto non l'abbiamo mai, tu poi conosci molto bene le statistiche, non l'abbiamo mai più o meno vista, noi speriamo evidentemente di fare un exploit e quindi di ottenere un risultato nettamente superiore, su questo non c'è un prediubbio e con Allianz è la stessa cosa, quindi i due brand non hanno problemi di sorta, la filosofia comunque è la nostra, nel senso per quanto riguarda la parte della gestione dei prestiti, di tutto quello che viene indietro, perché poi noi come struttura ci differenziamo dagli altri perché noi copriamo a 360 gradi tutte le attività che servono per supportare i clienti di fatto, perché non ci siano problemi, non ci siano… ed è chiaro che andando sull'innovazione e sulla semplificazione questo aiuta molto, perché non sono le tariffe che contano, adesso io qui non voglio neanche dare dei supporti ai concorrenti, comunque la tariffa che deve comunque essere una tariffa profittevole per gli assicuratori, perché se no gli assicuratori scappano, questo l'abbiamo visto negli anni, quindi non è sufficiente avere la tariffa più bassa, perché abbiamo delle compagnie con tariffe molto basse che però non fanno mercato, quindi conta molto, chiaramente il quadro dei processi che tu metti in piedi, tutti i flussi che tu stabilisci, perché è un mercato che pretende la velocità, voglio dire, è un mercato molto competitivo fra gli istituti finanziari, quindi chi dà uno spazio maggiore sotto il profilo dei processi semplificati, evidentemente vince, questo è un po' chi non discorre. Ti chiedo un parere tecnico, visto che tu ormai dopo tanti anni sei anche un tecnico nel mercato ad eccessione del quinto, si discute molto in questo mondo anche del teleunderwriting, cosa pensi tu del teleunderwriting? È una domanda a quale preferiscono rispondere. Perché mi porti a casa dei nemici, non vorrei rispondere. Noi non, posso dire questo, non applichiamo il teleunderwriting, non applicheremo mai e faremo mai applicare il teleunderwriting, punto. In qualche modo hai risposto, sì. Senti, io ti ringrazio moltissimo per questa conversazione che è stata anche molto interessante, penso per chi l'ascolterà, perché in qualche modo hai puntualizzato i vostri programmi, che sono programmi che riguardano grossi operatori del mondo assicurativo. Quindi, Franco, ti ringrazio e magari ci vedremo al prossimo convegno perché mi racconterai i risultati. Ah, certo, questo sicuramente. Io ringrazio voi dell'invito. Sarei curioso, sarei curioso, ecco, veramente di sapere. Eh, il tempo ce lo dirà, eh. Bene, adesso è arrivato il momento di avere con noi un nuovo ospite e ho il piacere di avere qui con noi Lorenzo Gerosa, Head of Protection Insurance di Auden. Buongiorno. Benvenuto Lorenzo, mi fa piacere averti qui con noi a parlare di Auden. Siete entrati da poco sul mercato italiano, anche da poco ma non pochissimo. Vuoi darmi due indicazioni sul perché siete entrati in Italia così, diciamo così, alla grande anche con tanta visibilità e quali sono i vostri piani? Allora, Auden Italia è una nuova realtà del mercato assicurativo italiano, è stata costituita, diciamo, nell'aprile del 2021 con progetti molto ambiziosi di crescita e di diventare quindi uno dei primi tre attori del brucheraggio italiano. Questo attraverso sia l'acquisizione di talenti e di competenze, sia l'acquisizione di altre realtà del mercato del brucheraggio. Dopo circa un anno e mezzo siamo già al terzo broker italiano per volumi, grazie anche all'acquisizione di broker importanti come Assiteca, Scagliarini, Asi e Tower e il nostro obiettivo è quello comunque di posizionarci tra i primi due, primi tre broker italiani. Beh, un obiettivo direi interessante. Comunque, a questo punto, in questo topic in cui parliamo di assicurazioni e sessione del quinto, mi devi dare un'indicazione, ma a cosa servono i broker nel mondo della sessione del quinto? Perché un intermediario? Allora, all'interno di Auden Italia è stata costituita proprio una business unit, quindi una specialty dedicata proprio all'accessione del quinto e lo stipendio. Io personalmente ho avuto sia esperienze in ambito di compagnie assicurative, quindi alla gestione di compagnie assicurative, sia in ambito di reti finanziarie, quindi di distribuzione di prodotti di credito al consumo e quindi posso dire che il ruolo del broker è quello proprio di essere il centro di interconnessione tra realtà diverse. Quindi sostanzialmente, soprattutto nel mondo della sessione del quinto, dove la polizia è obbligatoria e questa obbligatorietà viene vissuta dalle compagnie di assicurazioni e dalle banche e le società finanziarie in modo molto diverso tra loro, il broker è il pivot su cui poter concentrare le diverse esigenze e è il soggetto che riesce tra virgolette a mettere in connessione meglio queste realtà. Quindi è un facilitatore del dialogo, oltre che è un possessore di conoscenze tecniche importanti perché ovviamente l'approccio che hanno gli assicuratori non corrisponde sempre all'approccio che possono avere le società di credito. In questo senso mi sento di domandarti ma quali sono i bisogni delle compagnie di assicurazione? Perché una compagnia di assicurazione si rivolge a un broker nel mondo della sessione del quinto? Che necessità ha? Allora, le compagnie di assicurazioni che intendono entrare in un mercato come quello della sessione del quinto, quindi un mercato con delle particolarità molto accentuate necessitano di avere conoscenze e competenze e in questo il broker li può accompagnare all'interno diciamo di un mercato che non è così conosciuto se non da alcune realtà che sono presenti sul mercato da più tempo e non solo quindi da un punto di vista di prodotto e tecnica di prodotto ma anche di gestione cioè il broker può dare la possibilità a una compagnia di assicurazione che voglia approcciarsi a questo mercato di mettersi in connessione con le banche e le società finanziarie in termini molto più rapidi e molto più diretti. In più le compagnie di assicurazioni necessitano anche per poter entrare in questo mercato di una capacità riassicurativa, questo è un elemento che è molto poco conosciuto nel nostro settore ma diciamo così come le finanziarie hanno necessità di diversificare il rischio questo avviene anche per le compagnie e quindi necessitano di dover trasferire una parte del loro rischio a dei riassicuratori professionali. In questo Auden proprio anche alla luce di un'acquisizione recente quindi di Tiger Risk è diventato uno dei player globali in ambito di brokeraggio riassicurativo quindi nel pacchetto che un broker può offrire a una compagnia di assicurazione c'è conoscenza tecnica del prodotto, gestione, distribuzione ma anche capacità riassicurativa. Ma in questo ambito nella capacità riassicurativa è più importante riassicurare la parte danni o la parte vita? Entrambe, perché la parte vita soprattutto nel mondo dei pensionati ha una volatilità che comunque deve essere gestita tramite la cessione e riassicurazione invece la parte credito proprio perché non si conosce questa tipologia di prodotto soprattutto alcune compagnie che entrano sul mercato non conoscono hanno necessità di avere anche un supporto riassicurativo per poter crearsi il proprio portafoglio e poter iniziare a conoscere i dati sottostanti. Quindi entrambe direi, magari ci possono essere strutture riassicurative diverse, non voglio entrare nel tecnico però sì entrambe le realtà. In concreto cosa offrite voi come società di brokeraggio alle finanziarie, agli enti creditizi che in qualche modo anche loro si avvalgono dei vostri servizi? Beh, allora l'obbligatorietà pone la banca e la società finanziaria alla ricerca di capacità riassicurativa. Questo sotto due linee principali. La prima è la diversificazione, ovvero sia la banca ha necessità di avere diversi attori per ridurre il rischio di controparte, quindi avere più offerta sul mercato permette di poter scegliere meglio. E la seconda cosa è in connessione con quello che è per le compagnie di assicurazioni avere la possibilità, un gestionale, la possibilità di connettersi e di personalizzare l'offerta attraverso una piattaforma tecnologica che permetta per esempio nell'ambito del privato e quello dove noi stiamo spingendo molto, avere una scorecard decisionale che permetta di calibrare esattamente il rischio relativo a un'azienda, a un cliente e eventualmente a una compagnia di assicurazione. Un vero collettore di informazioni che poi dovete veicolare da una parte all'altra? Quella è veramente il ruolo, cioè il ruolo è proprio quello di avere un database di aziende su cui poter fare lo scoring, avere la possibilità di contattare direttamente tutto il mercato di banche e società finanziarie offrendo delle compagnie di assicurazioni con cui lavorare. E adesso mandiamo in onda il servizio che ha fatto Giuseppe Gaetano con Valeria De Santis e Silvia Silvestrelli. Buongiorno, grazie a Della Lina siamo a Roma nel quartiere generale di Net Insurance, in questi spazi appena rinnovati da Net & Co in ottica green, in ottica sostenibilità, per parlare di un'altra sostenibilità, non quella ambientale ma quella del mercato del credito e lo facciamo insieme a Silvia Silvestrelli, responsabile area commerciale tecnica della cessione del quinto e insieme a Valeria De Santis, responsabile underwriting cessione del quinto. Io direi di partire subito dal premio che vi è stato riconosciuto agli ultimi Leadership Awards nella categoria Business Model per il miglior supporto alle campagne commerciali dei partner per la cessione del quinto. Allora chiedo subito alla dottoressa Silvestrelli quali sono questi risultati che avete ottenuto nel 2022. Allora innanzitutto ti ringrazio Giuseppe per aver ricordato il premio che abbiamo ricevuto in occasione dell'ultimo Leadership Forum perché il premio ha appunto la motivazione che tu citavi e cioè il riconoscimento del costante impegno che mettiamo a supporto delle banche e istituti finanziari con i quali lavoriamo. Venendo invece ai risultati 2022 ti devo dire che per Net è stato un anno molto impegnativo con obiettivi estremamente sfidanti ma è stato anche un anno emozionante e pieno di successi perché abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi di piano e quindi abbiamo confermato, consolidato la nostra Leadership nelle coperture abbinate a cessione del quinto del stipendio, abbiamo avuto un boom della banca assicurazione che è cresciuta tantissimo negli ultimi 4 anni ma in particolare nel 2022 e abbiamo avuto la crescita anche dei due canali a cui noi teniamo molto quello dei broker e il digital. Venendo alla CQ abbiamo ottenuto questi risultati nonostante insomma come è noto uno scenario di mercato molto volatile e molto complesso grazie secondo noi in primo luogo alla qualità del servizio riservato ai partner bancari e finanziari in ogni fase del processo cessione del quinto underwriting, portafoglio, sinistri recuperi grazie alla sinergia, alla collaborazione con i riassicuratori e grazie anche al supporto che abbiamo avuto da consulenti e info provider. Mi piace poi ricordare perché sono state per noi insomma tappe cruciali nel 2022 la presentazione il 23 giugno del nuovo piano industriale di net piano 2022-2025, il primo agosto la quotazione al mercato star e sicuramente la data del 28 settembre per l'OPA che è stata lanciata dal gruppo Poste. Bene complimenti allora ancora per questi risultati che avete raggiunto però ora comincia il 2023 e allora volevo chiedere alla dottoressa De Santis è un anno particolarmente sfidante per una serie di motivi che già conosciamo, l'incertezza economica dovuta a prolungarsi della guerra ucraina, quindi ancora i rincari energetici che soggiacciono agli aumenti di prezzo di tutti gli altri prodotti finiti, i tassi di interesse che BCE e Fed sembrano intenzionati a continuare ad alzare per riportare l'inflazione a una cifra dalle due a cui si trova ora quindi insomma di carne al fuoco ce n'è tanta per fare bene, però c'è anche una novità che mi riguarda che è questa OPA di Poste Vita. Cosa ci può dire al riguardo? Ma intanto grazie, ma che dire sicuramente è stata percepita da tutti noi in maniera assolutamente positiva peraltro mi permetto di dire che ci inorgoglisce il fatto di essere in qualche modo rientrati nel radar screen di un player così importante come Poste, quindi siamo tutti molto soddisfatti di questo. Per quanto riguarda gli obiettivi del business futuro è chiaro che dovremo, come dici tu, anche attendere il perfezionamento dell'OPA e solo allora potremo cominciare anche a lavorare seguendo nuove strategie. Ma le strategie noi le abbiamo sempre avute, il 2023 è un anno per noi molto sfidante, peraltro gli obiettivi erano stati già definiti dal piano industriale 2022-2025, quindi gli obiettivi per noi sono quelli del mantenimento di un ruolo di leadership soprattutto nel mercato e nel comparto di dipendenti, chiaro. Mantenere comunque un livello di portafoglio virtuoso e quindi lavorare bene e lavorare con un'ottima qualità del portafoglio anche pensando a quelli che saranno i volumi che pian piano aumenteranno anche di produzione. E infine sicuramente importante è anche l'organizzazione di incontri commerciali e formativi perché noi riteniamo che ci sia proprio la necessità e l'esigenza di ritornare a stare insieme, in aula, in presenza, cioè dare proprio la possibilità a tutti di rincontrarsi. E questi spazi di Net & Co che insomma sono stati inaugurati nel corso del 2022, per noi vogliono dire anche questo, cioè il fatto di poter in qualche modo ritrovarsi, immaginare anche di lavorare insieme meglio, avere nuove idee con il partner bancario e finanziario con il quale collaboriamo ogni giorno. Quindi questi sono gli obiettivi, come lo faremo? Sicuramente puntando sul servizio e sulla velocità del servizio che per noi è assolutamente una condizione sine qua non. cercando di introdurre anche nuovi fattori, nuove variabili di scoring per riuscire anche ad ampliare il bacino delle aziende nel nostro database. E poi sicuramente la questione anche pricing sarà fondamentale. Perché? Perché comunque cercheremo di creare ad hoc un pricing sulla base anche della tipologia di comparto, delle aziende e anche dell'operatore dal quale ci arriva la richiesta. Quindi tante cose, tanti obiettivi, ma noi siamo assolutamente molto entusiasti e non vediamo l'ora di cavalcare questo nuovo anno. Immagino che di bocca al lupo, insomma, anche per questi obiettivi che vi proponete per il 2023. Tornando alla dottoressa Silvia Silvestrelli, invece affrontiamo un altro capitolo spinoso del settore che è la recente sentenza della Corte Costituzionale sul caso Lexitor. È vero che impatta principalmente sulle banche, però volevo sapere voi come la state vivendo lato compagnia considerando anche che potrebbe avere degli effetti anche sui consumatori, tutto sommato che potrebbero avere un accesso ora più difficile al credito. Qual è la sua visione su questo problema? Allora, la pronuncia della Corte Costituzionale di fatto ha stabilito l'applicabilità della Lexitor e quindi la necessità di rimborsare tutti i costi, compresi i famosi costi up front, anche per i contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della legge 106 del 2021. Questo per le banche e gli istituti finanziari determina e determinerà necessariamente impatti sia economici che operativi. Lato compagniae, come dicevi tu, non c'è un impatto diretto, non c'è un impatto diretto, ma noi riteniamo che quegli effetti indiretti cui facevi riferimento tu necessariamente si verificheranno quindi in termini di raccolta, di volumi, di clausole e di condizioni dei contratti di finanziamento. Non riusciamo ancora ovviamente a prevederlo. Uno spiraglio c'è e riteniamo che possa essere il futuro pronunciamento della Corte di Giustizia europea interpellata nell'ambito della questione di Unicredit Bank Austria. Perché? Perché sembra che la pronuncia debba arrivare entro i prossimi due o tre mesi e sembra che sulla base delle considerazioni dell'Avvocato Generale della Corte stessa ci possa essere una pronuncia favorevole per gli operatori e quindi per il mercato. Non possiamo fare altro in questo momento che attendere quella pronuncia perché un'eventuale pronuncia favorevole, quindi in caso di esito positivo, una volta ottenuto questo, anche in Italia si potrà fare ricorso, il giudice ordinario potrà ripresentare la questione della Corte di Giustizia europea e quindi in qualche modo far cambiare nuovamente le regole da applicare in caso di rimborso per estinzione anticipata dei finanziamenti. In questo momento credo dobbiamo solo tutti attendere. Certo, se ne tornerà sicuramente a parlare di questo argomento nel corso dell'anno. L'ultima domanda, torniamo alla dottoressa Valeria De Santis, invece cambiamo argomento, parliamo dell'ultimo messaggio IMS che riguarda il trasferimento della cessione del quinto dallo stipendio alla pensione e questa migrazione progressiva nella procedura quote quinto. Voi come Net Insurance come vi state organizzando? Ma come ci stiamo organizzando? In questo momento aspettiamo e attendiamo ansiosamente gli aggiornamenti da parte di IMS. Certo, c'è da dire che queste novità in realtà sono parziali, nel senso che comunque già IMS oggi traslava la trattenuta sulla pensione, solo che oggi e fino ad oggi è stato fatto in maniera manuale e non automatizzata. Quindi questa sicuramente sarà un'opportunità, sarà un'opportunità a livello commerciale nei confronti dei nostri partner. Chiaramente anche lato nostro abbiamo già un'immagine, un'idea di quelli che saranno i futuri criteri assuntivi da comunicare agli istituti, ma dobbiamo aspettare. Quindi in questo caso non abbiamo alternative, aspettiamo aggiornamenti e poi comunicheremo a tutti le novità. Insomma, quindi sperando in opportunità commerciali importanti. Torneremo a riaggiornarci anche su questo punto. Nel frattempo ringraziamo ancora molto la dottoressa Valeria De Santis, responsabile Underwriting, cessione del quinto, e la dottoressa Silvia Sebbiastrelli, responsabile area commerciale e tecnica, cessione del quinto. Dal quartier generale di Net Insurance è tutto, linea allo studio. E adesso è venuto il momento di vedere l'intervista di Marcella Frati con Alberto Vacca. E ora è il momento di dare spazio ai nuovi entranti, gli assicuratori, i nuovi entranti in questo grande mercato della cessione del quinto. E ho in studio qui con me Alberto Vacca, oggi rappresentante di Allianz Italia. Benvenuto Alberto. Grazie Marcella. Allianz Italia nel 2022 ha deciso di entrare nel settore della cessione del quinto, perché tu forse hai deciso di entrare in questo settore in quanto arrivi da un'esperienza precedente di successo in Aviva, dove avevate appunto costituito una business unit dedicata a questo tipo di assicurazione. Da un anno sei in Allianz, è un tipo di business tu cui credi molto, per cui hai deciso di svilupparlo anche per Allianz Italia. Come mai questa motivazione, questa forte tua convinzione? Ma come tu hai detto innanzitutto, diciamo c'è il fatto che Allianz crede molto nella protection, quindi ho trovato il gruppo Allianz in Italia molto ben posizionato sulla protection vita, presente sia lato corporate che lato retail. Mancava però questa nicchia di mercato, che è molto rilevante se comparata col totale del mondo della protection vita in Italia. Quindi, forte anche della mia esperienza precedente in Aviva, dove nel 2016 ero appunto entrato in questa stessa nicchia di mercato, ho valutato necessaria questa entrata per consolidare e rafforzare la nostra presenza all'interno del mondo della protection vita. C'era anche un altro motivo, il motivo è che il gruppo Allianz ha comprato proprio da Aviva la compagnia Viva Italia, che oggi si chiama Allianz Viva, che è presente nel mondo della cessione del quinto dello stipendio lato d'anni ed era fondamentale completare l'offerta sulla cessione del quinto dello stipendio offrendo anche la componente vita che sappiamo tra l'altro sulla parte dello stipendio presenta dei margini di profittabilità anche superiori a quelli medi per le compagnie. Quindi la combinazione di queste motivazioni, unita al fatto all'esperienza che già avevo con la mia precedente compagnia, mi ha spinto ad entrare e credo che questo sia stato un passo necessario per poter rafforzare la nostra presenza nel mercato. Alberto, una necessità però è anche una bella sfida perché comunque il mercato della cessione del quinto negli ultimi anni ha tirato molti assicuratori, mentre per anni gli assicuratori avevano grandi timori ad avvicinarsi a questo settore, devo dire che il mercato del 2023 si presenta quasi super affollato. Come pensi di differenziare la vostra proposition di offerta rispetto a quella di altre concorrenti che tra l'altro sono anche oggi qui a Leadership Forum TV Show per presentare il loro ingresso in questo settore? Io credo che le chiavi di successo per la cessione del quinto non siano molte. Io vedo in particolare tre cose importanti. La prima è avere una tariffa competitiva. Sappiamo che c'è un sovraffollamento. Essere appetibili insomma. Essere appetibili ma anche profittevoli. Questo è l'equilibrio che bisogna cercare perché la tariffa deve essere competitiva ma ti deve anche consentire di mantenerti in equilibrio di profittabilità fino nel medio termine, nel lungo termine. Quindi questa è una delle chiavi di successo. La seconda è avere un processo di underwriting molto semplice, automatizzato, chiaro, con regole assolutamente cristalline e non derogabili. Questo ti agevola tantissimo perché ti consente di costruire il business più velocemente. È molto apprezzato dai distributori, dalle società finanziarie. Ma anche cosa è più sicuro se mi permetti? È molto sicuro e ha il vantaggio anche di velocizzare e rendere molto semplice anche tutta la parte di gestione dei sinistri. Anderwriting chiaro significa anche molto semplice, trasparente, veloce la gestione dei sinistri. Quindi questa è sicuramente una delle chiavi di successo. La terza è la forza del gruppo che offre questa protezione. Forza intesa sia in termini di solidità finanziaria. Siamo Allianz, diciamo, come rating all'interno del mondo assicurativo sicuramente ai massimi livelli in termini di solidità finanziaria. La doppia A è un rating che sappiamo è ben superiore anche a quello dello Stato italiano e quindi ci dà questa grande forza unita anche alla forza del brand che per noi è un motivo di orgoglio perché siamo stati considerati il primo brand assicurativo da Brand Finance, che è una società di consulenza strategica specializzata proprio nel brand e questo è stato pubblicato nell'ultimo rapporto 500 del 2023 che loro hanno prodotto. Questa è sicuramente anche un'altra chiave di successo molto importante, l'attrattività che si ha nei confronti dei clienti. Con queste tre leve, secondo me, Allianz può entrare in questo settore essendo confidente che nel medio termine può raggiungere le posizioni che Allianz è abituata a raggiungere in qualunque comparto assicurativo in cui decide di competere. Allianz vuole vincere. Allianz vuole vincere, non l'ho detto in modo esplicito, vogliamo vincere sempre. Anche questa sfida della cessione del quinto. Assolutamente, è una sfida che io considero assolutamente importante, ripeto, per rafforzare la nostra posizione già forte nel mondo della protection vita in Italia e quindi era assolutamente un'opportunità che Allianz non può perdere. Certo, se mi permetti, vorrei fare una battuta che magari pochi sanno, che insomma tu riporti Allianz nuovamente nella cessione del quinto, perché io ricordo dal mio maestro, l'avvocato Fregessi di Rattalma, che diceva sempre che la RAS, all'epoca si chiamava RAS, agli anni 70, era fortissima nella cessione del quinto. Quando le compagnie di assicurazione avevano ancora, avevano in mano questo business, poi l'hanno abbandonato, oggi invece l'avete ripreso, state riprendendo tutte alla grande. Grazie per questo chiarimento che hai fatto al mercato, ai nostri spettatori, che sicuramente il vostro ingresso è molto importante, un partner così solido, forte come Allianz. Alberto, adesso io vorrei appunto approfittare della tua presenza qui oggi con me per parlare un po' di te. Dopo tanti anni con gli inglesi, da un anno sei in Allianz, Allianz Italia, con una bellissima responsabilità del Head of Life and Health, cioè vita e salute, cioè due pilastri importanti oggi per chi fa assicurazione. Come sta andando? Come si stai trovando? Io sono stato orgoglioso di entrare in questo gruppo, è stata per me una scelta di grande orgoglio e soddisfazione quando è stata chiusa l'avventura con Aviva, poter entrare nel gruppo assicurativo che ammiravo di più, perché lo consideravo il migliore al mondo quando ero fuori. Sono anche stato azionista, diciamo, nella mia vita precedente del gruppo Allianz, quindi credevo molto in questo gruppo, nella sua capacità di produrre reddito in modo costante in qualunque contesto di mercato. Quindi è stato per me un grande orgoglio poter entrare. Il 2022 è stato un anno molto stimolante, sia sul vita che sul salute. Il Vita è stato attraversato da tutte le turborenze di mercato, mercati equiti, mercati obbligazionari che sono andati chiaramente in subbuio, anche a causa dei fenomeni collegati alla guerra e a tutte le altre cose che tutti conosciamo. C'è stata l'impegnata dell'inflazione, il rialzo repentino dei tassi di interesse che non si vedeva da tantissimi anni. Questo ha comportato, diciamo, un cambiamento su tutta l'offerta Vita, quindi questo per me è stato un grande estimo e una grande opportunità anche per poter ridisegnare la gamma prodotti del Vita. Il saluto poi è stato anche altrettanto interessante perché chiaramente sappiamo che è uno dei settori in crescita in tutta Italia. Quindi il 2022 che mi ha lasciato contento di questa scelta, sono chiaramente molto curioso anche di vedere come proseguirà la sfida nei prossimi anni, ma di sicuro guidare le due aree Vita e Salute che sono due aree così importanti per il conto economico di tutte le compagnie. In questo momento particolare, due aree anche in grande crescita, è sicuramente una grande responsabilità e chiaramente un grande motivo di orgoglio da parte mia. Sono sicura che farai bene, riconoscendoti sicuramente Allianz raggiungerà importanti risultati in questi due settori. Bene, grazie ad Alberto Vacca per la sua presenza oggi con noi e proseguiamo con il prossimo ospite. Benvenuto Paolo per la prima volta nei nostri studios. Parliamo di Aon, che dopo un po' di esperienza nel mondo della cessione del quinto, ha deciso nel 2022 di investire maggiormente. Quindi siete riusciti a convincere forse gli americani che questo è un business che si deve fare in Italia, costituendo proprio una vera business unit dedicata al mondo della cessione del quinto. Ci puoi raccontare la razionale che vi ha spinto a questo investimento, anche perché ci sono già tantissimi operatori nel mondo assicurativo che si interessano a questo settore? Sì, ma allora intanto diciamo che effettivamente il tema della cessione del quinto non è intuitivo per chi non opera sul mercato italiano, perché naturalmente è una specificità nostra e quindi spiegarlo ai colleghi che operano in altri paesi non è sempre facile. Però detto questo, noi come Aon in Italia abbiamo la fortuna e il privilegio di collaborare con alcune fra le più importanti, più prestigiose istituzioni finanziarie che operano nel nostro paese. Noi li aiutiamo prevalentemente nella gestione, nella mitigazione dei loro rischi corporate e solo occasionalmente ci proponiamo per assisterli su specifiche linee di business, come per esempio la cessione del quinto. Però ci siamo resi conto che in realtà come intermediario e come fornitore di servizi per la gestione dei rischi noi siamo in grado di creare valore ai nostri clienti, alle banche finanziarie ai nostri clienti, anche in questo settore. E quindi considerando anche che è un business importante, vale fra i 500 e i 600 milioni di euro di premi all'anno, abbiamo deciso di investire e quindi di proporci ai nostri clienti anche su questo tema. Ovviamente il valore che noi possiamo portare ai nostri clienti deriva oltre che dal set di servizi che siamo in grado di riproporre anche dalla capacità negoziale che abbiamo nei confronti dei mercati. Quindi a livello di tariffe, perché voi comunque avete accesso a tutti i mercati internazionali, cioè voi siete AUN. Sì, noi siamo AUN, il che dovendo esprimere il concetto in numeri significa che noi intermediamo ogni anno circa 3 miliardi di euro di premi assicurativi e riassicurativi. Siamo il primo cliente di sostanzialmente tutto, quasi tutte le compagnie italiane e straniere che operano in Italia e questo ci consente di avere appunto una capacità, una leva negoziale che altri operatori non hanno. Peraltro questi miliardi sono concentrati prevalentemente sui rami danni, sono spalmati appunto su tutti i 18 rami assicurativi e questo significa che noi possiamo portare alle compagnie i premi che loro gradiscono e che loro desiderano. Non essendo un broker specializzato su uno specifico business, abbiamo la possibilità di fare leva su diversi rischi e giocare anche sugli appetiti delle compagnie assicurative. Quindi questo sicuramente ci pone in una posizione di particolare favore. per iniziare a lavorare su... Ecco, ma se ti posso chiedere a una banca piuttosto che a una finanziaria che appunto sono il target vostro che cosa, a che tipo di valore aggiunto magari offrite, qualche servizio particolare proprio perché voi avete comunque una expertise, una linea di business molto completa che va al di là ovviamente come abbiamo già detto della gestione del quinto. Quindi c'è qualche cosa, un valore aggiunto diverso anche dagli altri concorrenti anche perché la maggior parte dei brokers che lavorano in questo settore sono di matrice italiana forse ce ne sono un paio che sono di matrice internazionale. Sì, noi diciamo che possiamo, abbiamo la possibilità di portare ai nostri clienti, banche più in genere istituzioni finanziarie, i risultati della negoziazione che abbiamo con i mercati assicurativi. Oltre appunto alla capacità derivante dei volumi di premi che trasportiamo sul mercato, che spostiamo sul mercato assicurativo, noi offriamo alle compagnie una serie, una gamma di servizi. Quindi noi siamo, oltre all'intermediazione diretta e riassicurativa, noi sappiamo quanto sia importante il tema della riassicurazione nel mondo della cessione del quinto, è certamente centrale, noi siamo in grado anche di offrire dei servizi di TPA attraverso la nostra società a un advisory, che vanno dall'analisi dei rischi alla gestione del processo di underwriting, gestione sinistri, fino eventualmente ad arrivare al recupero dei crediti. Naturalmente i colleghi di un advisory possono poi collaborare con le migliori professionalità che trovano sul mercato di volta in volta, e possiamo anche offrire dei canali distributivi a compagnie straniere che desiderassero entrare nel mercato italiano. Certo, che comunque si appoggerebbero a voi, certo. Sì, in particolare noi abbiamo la nostra agenzia di sottoscrizione, che si chiama One Underwriting, che può essere un efficace canale distributivo. Quindi noi mettiamo a disposizione del mercato assicurativo un set completo di soluzioni e servizi che consentono agli assicuratori di poter garantire condizioni di favore e anche di poter concentrare la propria attività sulla quotazione, sull'analisi e sulla quantificazione del rischio. Per contro poi noi siamo anche in grado di offrire, non alle compagnie in questo caso, ma ai clienti, alle banche, delle soluzioni alternative per il finanziamento del rischio, in particolare delle analisi, degli studi di fattibilità su eventuali captive di riassicurazione, che è uno strumento che noi crediamo possa essere destinato a crescere molto nel settore della cessione. Questo è molto interessante. Paolo, ascolto un'ultima domanda. Il vostro brand vi impone di non rimanere al fondo del ranking, in termini di raccolta premi, in termini di azione assicurativa. Che ambizione avete? Avete già in testa qualche target che magari volete condividere? Sicuramente Aune deve comunque avere un bel market share, deve conquistare un market share. Sì, lo impongono i nostri azionisti ed è una nostra ferma volontà. Noi sicuramente riteniamo di poter crescere in tempi molto rapidi, in doppia cifra. Vogliamo acquisire una quota di mercato importante, ma soprattutto entriamo nel mercato della cessione del quinto per restare. Perché noi siamo convinti che sia... E' sempre cresciuto in maniera molto importante. Ma quanti siete oggi che vi occupate di cessione del quinto? Ma il team è un team trasversale, nel senso che... Quindi avete più competenze? Abbiamo diverse competenze. Come dicevo prima, abbiamo dei colleghi che seguono l'intermediazione, il broccheraggio diretto. E poi abbiamo dei colleghi che lavorano in AUNRE, che è la nostra società che si occupa di riassicurazione. Abbiamo i colleghi di AUN Advisory, quindi il team è vasto e soprattutto è con competenze eterogenee, che ci permetteranno di fare la differenza. Bene, grazie ancora Paolo per la tua presenza qui oggi. Grazie a te. E lascio il collegamento da Roma a Giuseppe Gaetano. Grazie della linea, siamo nella sede romana di Medianet Brokers. E siamo insieme a Giuseppe Iuculano, direttore commerciale, che ci parlerà di questa novità che è entrata tra le attività di Medianet Brokers. Da sei mesi il mercato dell'assicurazione per la cessione del quinto. Dottor Iuculano, buongiorno e come sta andando? Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Sta andando abbastanza bene, siamo partiti da circa sei mesi su un nuovo progetto, un progetto molto importante, ambizioso, che ci vede attori protagonisti nell'ambito della cessione del quinto. Abbiamo intrapreso un percorso differente da quello che ci ha visto protagonisti, me ed altri colleghi, nel mercato finanziario. Quindi tempo fa, poco tempo fa, dal cliente bancario e adesso in una nuova veste. Abbiamo cercato di apportare in questo nuovo mondo le nostre competenze, la nostra expertise. Ci riteniamo abbastanza soddisfatti perché non pensavamo di ricevere così tanta credibilità da questo mercato, sia dal mercato assicurativo che da quello bancario e finanziario. Siamo riusciti a mettere, grazie a un lavoro straordinario di tutti i nostri tecnici, un sistema molto importante, il denominato Quinto Smart, un sistema assolutamente tecnologicamente avanzato, che è pensato proprio sulla gestione dell'underwriting, non solo dell'underwriting, ma anche di tutto il processo di post vendita. Questo sistema è stato fatto perché Medianet si vuole porre su questo nuovo mercato come non una semplice attività di brokeraggio, ma come un vero e proprio TPA, dove al centro ci sono da un lato le banche finanziarie e dall'altra parte le compagnie assicurative. Quindi la sostenibilità per noi di questo mercato passa ad un perfetto equilibrio tra il mercato finanziario e quello assicurativo. Diciamo che siamo già partiti con diversi accordi assicurativi, abbiamo firmato anche diversi accordi bancari e quindi da questo punto di vista ci riteriamo veramente soddisfatti. Avanti così. Adesso comincia naturalmente però il 2023, un anno particolarmente difficile secondo analisti, rincara un po' tutto, è previsto anche un aumento delle tariffe? Ma allora, il 2023 è partito lasciandosi alle spalle in 2022, che chiaramente ha portato, come ben sappiamo, la BCE ad alzare intanto i tassi, che fino a poco tempo fa erano negativi. Questo impatto sui tassi, chiaramente per combattere l'inflazione, questo impatto dei tassi ha avuto un impatto sull'economia reale, un impatto appunto sulla domanda e anche sull'offerta. Tutt'oggi, quello che un po' ci chiediamo è il cliente è ancora un po' disorientato, perché fino a qualche mese fa, forse anche meno di mese fa, si usciva su questo prodotto, compreso appunto di polizia assicurativa, si usciva a dei tassi veramente abbastanza erisori. Considerando che dietro la lavorazione di una pratica ci sono tanti attori, quindi c'è un costo pratica, c'è la banca, c'è la finanziaria, c'è una rete di agenti, c'è una rete di mediatori. Quindi si è andato probabilmente, poco tempo fa, a svilire un prodotto. Questo aumento dei tassi, chiaramente non è stato ben percepito dal consumatore e probabilmente in questo periodo si assiste magari ad una richiesta inferiore. Però crediamo anche che la cessione del quinto è oggi uno dei prestiti più garantiti, sia perché è legato a un finanziamento in busta paga, anche perché le banche c'è un abbattimento patrimoniale che è passato dal 70 al 30%, quindi rispetto a un prestito personale presenta meno rischiosità. Quindi secondo me assisteremo a un 2023 in cui ci sarà magari i primi 3-4 mesi degli assestamenti per poi riprendere la sua corsa. Chiaramente la cosa importante è che tutti gli attori dal mio punto di vista debbano un po' contribuire a far sì che questo mercato si stabilizzi perché non si può continuare in un mercato dove alcuni adottano delle regole e altri adottano delle altre. Alla fine purtroppo la mala gestione si paga. Certo. Sicuramente è un comparto che ne risentirà meno di altri per quanto riguarda il credito e sensato tutti devono fare la loro parte a cominciare anche dalle istituzioni ma queste qui sono le ultime novità che abbiamo sentito riguardo appunto l'assicurazione per la gestione del quinto ma Medianet Broker ha una storia lunga lunghissima che possiamo quasi definire storica 25 anni e ne parliamo con uno degli amministratori il dottor Francesco Archilletti ci vuole riassumere un po' questi 25 anni di storia di Medianet Brokers. Allora intanto buonasera diciamo che riassumere 25 anni non è semplicissimo quindi possiamo dire che siamo nati 25 anni fa quindi siamo giovani da questo punto di vista e come tutti i broker specializzati in alcuni settori abbiamo poi iniziato l'attività come generalisti quindi con il cliente al centro dei nostri interessi e al centro naturalmente della nostra attività. Poi in questi anni ci siamo anche specializzati in alcune attività più determinate per esempio nel mondo dello sport dove siamo diventati un punto di riferimento qui e su Roma. Circa 6-7 mesi fa abbiamo deciso di intraprendere questa nuova attività nel mondo invece della cessione del quinto. Ci è sembrato un settore in evoluzione che doveva prendere comunque una piega un pochino diversa rispetto al passato e come abbiamo sempre fatto in questi anni ci siamo adoperati per raccogliere dal mercato non solo gli input ma anche le persone giuste che pensiamo di avere individuato e abbiamo fatto una squadra veramente di grande livello che ha portato l'esperienza giusta in un gruppo già di persone coese che comunque questa attività la fanno da diversi anni e da qui sono arrivati già i primi risultati che riteniamo essere sicuramente soddisfacenti e che ci porteranno a fare un ottimo lavoro soprattutto quel lavoro che è di mediazione tra le esigenze del mercato della raccolta e le esigenze del pubblico che invece ha necessità di finanziarsi attraverso la cessione del quinto quindi questa è la nostra missione più che la nostra storia passata perfetto approfittiamo di avere al nostro tavolo anche l'altro amministratore di Medianet Broker il dottor Antonio Quarruocciolo anche lei ci vuole raccontare un po' qualcosa delle vostre attività in questi anni grazie intanto buonasera a tutti Medianet Broker come diceva Francesca Archilletti è una società che lavora già da 25 anni sul settore noi siamo specialisti come già detto sul settore sportivo abbiamo implementato la parte di zootecnia con l'acquisizione di un collega che è specializzato nel settore dopodiché sui classici rischi professionali e sulle fiduzioni abbiamo creato delle nicchie apposite all'interno della struttura e in più stiamo cercando di emergere sul rischio engineering con conseguenti lavoro faticoso ma che sta portando dei risultati ottimi sia con accordi con clienti ma soprattutto con compagnie per il resto stiamo andando avanti anche sul trasporti per dare un servizio a 360 gradi sui nostri clienti che sono clienti importanti in portafoglio questo è quanto le cose principali che stiamo facendo e che abbiamo fatto finora bene ringraziamo ancora Medianet Brokers per essere stata ospite del nostro Leadership Forum TV Show dal quartiere generale di Roma è tutto linea allo studio ora è il momento di parlare dell'evoluzione dell'intermediazione creditizia dei modelli di intermediazione creditizia ma prima diciamo di fare questo vorrei proporvi un servizio realizzato nei giorni scorsi da Enrico Pollino con il direttore generale di OAM Federico Lucchetti nel contesto del sedicesimo Leadership Forum siamo oggi qui con il dottor Federico Lucchetti direttore dell'OAM ormai da parecchi anni dottor Lucchetti abbastanza abbastanza complimenti grazie 2013 2013 e devo dire che anche io frequento questo mondo ormai da parecchio tempo e il mondo sta cambiando sta cambiando tutto il contesto europeo sta cambiando abbiamo tutti questa percezione di cambiamento anche il mercato il mercato della mediazione si è molto accarpato si è molto diciamo così ristretto però sono aumentati gli operatori ma sono diminuite le società è cambiato anche il mondo della cessione del quinto quindi un mondo di grande cambiamento di questo tipo dove dagli operatori subentra la volontà la voglia di cambiare anche la necessità di cambiare chiaramente l'OAM si trova davvero davanti a un sacco di sfide come pensate di approcciare a queste sfide voi ad affrontare il cambiamento che si sta creando questa necessità di cambiamento così forte che si sta manifestando nel nostro mercato il cambiamento è indubbiamente forte pensiamo all'innovazione tecnologica pensiamo alla richiesta da parte dei consumatori di servizi diversi rispetto a quelli che originariamente hanno portato all'emanazione da 140 penso alla consulenza pura il consumatore ha sempre più bisogno di consulenza pura e non strettamente legata poi al credito la risposta tecnicamente è facilissima poi da farsi è tutta un'altra storia nel senso che la risposta è quella di disegnare un nuovo perimetro normativo che prenda in considerazione questi nuovi fenomeni prenda in considerazione il mondo che è cambiato ma che anche dia uno sguardo al futuro e che magari non obblighi poi il mercato fra 5-6 anni a fare nuovamente i conti con una legislazione che non si attaglia più appunto alle dinamiche del mercato perché quindi la risposta è molto semplice a farsi è tutta un'altra è tutta un'altra storia sicuramente è complicato abbiamo un'occasione molto molto importante a maggio dovrebbe essere approvata a livello comunitario una nuova direttiva al credito al consumo ecco quella è una è un'occasione forse ripetibile per l'intero settore di diciamo di riforma profonda del perimetro dell'intermediazione del credito ovviamente l'OAM farà si farà promotrice di interventi normativi perché lo riteniamo lo riteniamo giusto visto che poi siamo un'autorità di vigilanza del settore con l'obiettivo finale ovviamente come deve essere di tutelare il consumatore ma appunto di dare delle regole che consentano delle regole di mercato che consentano anche una una libera concorrenza proprio a favore poi finale del consumatore quindi al beneficiario finale dell'intermediazione del credito quindi l'OMA ha già iniziato a lavorare su principi basi di una base di una possibile riforma sicuramente ci sarà un momento di confronto con le partecipanti in relazione al quale ci auguriamo che ci sia una condivisione di massima sui principi fondamentali sui cardini di questa riforma e poi ovviamente non avendo l'OMA potere legislativo ci auguriamo che il legislatore ci ascolti e si fidi dei nostri suggerimenti e dei nostri consigli ma guardi dottor Rucchetti mi sono venuti due pensieri ascoltando il suo intervento su cui le vorrei chiedere un commento il primo pensiero è l'OMA ormai è parecchi anni che opera ho avuto il piacere e anche l'onore di vederla crescere molto nelle strutture nelle competenze e credo che questo debba essere per tutta la struttura anche dell'OMA un grande motivo di orgoglio quindi questo in questo cambiamento di mercato credo che magari due parole ce le possa dire ma vorrei aggiungere un'altra cosa anche il mercato sta cambiando come sta passando da una logica di prodotto a una logica di servizio dove diventa sempre più importante e credo che l'OMA debba attrezzarsi per far fronte a questo cambiamento vuole darmi un suo pensiero su questo il mercato sta andando verso una logica di servizio l'OMA sta sempre più a parte diciamo l'aspetto dimensionale dell'OMA che sta crescendo in modo molto importante c'è stata una forte accelerazione l'anno scorso ci sarà una forte accelerazione anche quest'anno diciamo che l'OMA si sta trasformando sempre di più in un authority in un soggetto in un soggetto terzo fermo restando la sua natura la sua natura privatistica non posso non condividere quello che lei diceva e a maggior ragione è proprio per questo che c'è bisogno di ridisegnare questo perimetro perché altrimenti altrimenti rischiamo di di creare un mercato dove insomma c'è un po' troppa confusione le regole non sono chiare e poi in queste situazioni in queste circostanze c'è sempre chi se ne approfitta a danno poi del consumatore e questo cosa significa? Significa ovviamente in primis appunto un danno del consumatore ma anche per tutti gli operatori che vogliono invece stare sul mercato in modo corretto in modo onesto e soprattutto allineato a quelli che sono gli strumenti del tempo credo che la maggior parte degli operatori siano operatori onesti che vogliono operare onestamente su questo mercato chiaramente ci sono anche diciamo così un po' le pecore nere e credo che l'OAM abbia proprio il compito di individuare queste pecore nere e cercare di lavorare perché il mercato lavori sempre più con un'etica e una disponibilità verso il consumatore più importante in modo tale che il consumatore stesso possa percepirlo perché tante volte c'è una certa distanza sì è vero è altrettanto vero che gli strumenti che attualmente l'OAM a disposizione contro l'abusivismo sono estremamente estremamente limitati come ho detto in altre occasioni attualmente l'esercizio abusivo dell'attività dell'interminazione del credito è una violazione di carattere penale che però ha degli effetti negativi cioè dal punto di vista teorico è la massima deterrenza quindi quello di non commettere appunto dei reati penalmente rileanti però da un punto di vista poi pratico ci sono diciamo degli effetti collaterali la lentezza la conosciamo tutti della giustizia la sensibilità anche se qui devo dare atto sia alle forze dell'ordine che alla magistratura guardia di finanza e alla magistratura di un aumento della sensibilità nel corso degli anni ormai sono in tutti i procedimenti penali per esercizi abusivi della professione intermediaria del credito ci costituiamo parte civile veniamo riconosciuti come parte civile viene anche determinato un ristoro come parte civile ovviamente è un ristoro simbolico ma è importante proprio per gli operatori onesti però il problema e torno sempre alla base degli strumenti normativi è che in realtà noi abbiamo un plafond di strumenti di contrasto a disposizione che è estremamente limitato una delle richieste principali che farà l'OM poi quando sarà il momento in sede appunto di di riforma della normativa è quella proprio di invece dotare l'organismo di strumenti veramente incisivi che possano contrastare in modo adeguato questo fenomeno l'OM mi pare evidente non può e non deve fare questa battaglia da sola e quindi ma mi pare che però siate in qualche modo supportati da tutto ciò e da tutto il contesto che vi sta intorno e non mi resta che allora dirle buon lavoro veramente ne avete bisogno di un augurio di buon lavoro e grazie per essere con noi sempre in questo leadership forum grazie devo dire che le partecipanti dell'OM ma tutto il settore sull'abusivismo sono sempre stati a fianco dell'OM hanno sempre chiesto all'OM di intervenire con i limiti che l'OM ha sempre cercato di intervenire con i limiti che ho detto prima però mi mette un pizzico di presunzione le sfide ci sono sempre piaciute e noi le raccogliamo e speriamo di vincere anche questa o comunque di costituire un ottimo presidio del mercato in contrasto appunto a fenomeni abusivi e noi nel nostro piccolo saremo con voi grazie dopo la voce dell'OM è il momento di ascoltare e conoscere alcune delle case stories che caratterizzano l'evoluzione della benintermediazione creditizia in Italia e guardiamo insieme i contributi che ci ha portato Alberico in Briano benvenuto Giovanni Rossi Head of Human Connection Tribe di ING Italia buon poveriggio Alberico ben ritrovato e anche a chi ci ascolta grazie Giovanni grazie mille per la tua disponibilità e per essere qui presente con noi oggi nei nostri PLTV Studios Giovanni partirei subito con una primissima domanda nell'ambito di questo nostro topic dedicato all'intermediazione creditizia come sono cambiate le esigenze e quali sono oggi le priorità dei clienti è una domanda impegnativa c'è un prima e dopo la pandemia che ha cambiato le modalità i comportamenti dei clienti nei confronti in generale del consumo e dei servizi e delle banche e delle istituzioni creditizie forse in particolare perché cito un numero prima della pandemia c'erano meno di 10 milioni di speed registrate in questo paese oggi sono più di 35 che significa consumatori digitali pronti identificabili è un mercato che si apre durante la pandemia abbiamo imparato a fare tutto online a interagire in videoconferenza per la scuola per i servizi medici per i servizi finanziari quindi abbiamo un'opportunità credo molto importante di cambiare la relazione di renderla più efficace con percorsi ibridi quindi alternando momenti di interazione remota con i clienti digitale e momenti necessari anche di incontro guardandosi ancora negli occhi e poi l'esigenza io credo più importante oggi è aiutare i clienti a affrontare una fase che era imprevista si sta comodi in un ambiente di tassi bassi e persistenti c'erano dimenticati com'è e in 5 mesi in 6 mesi ci siamo ritrovati di nuovo e proprio davvero c'è un tema di ricostruire una confidenza con un ambiente di tassi in movimento e in movimento verso l'alto quindi credo che un grande grande tema una sfida che oggi tutti abbiamo nella comunità finanziaria è aiutare i nostri clienti ad affrontare le decisioni di indebitamento con un'idea di sostenibilità e qui che proprio il ruolo della consulenza diventa veramente nobile come pure magari a capire se scelte fatte in passato sono ancora corrette e qui c'è uno spazio di sostegno alle famiglie che è veramente interessante perfetto grazie Giovanni sicuramente sono d'accordo con te la pandemia ha sicuramente accelerato quello che è il processo di digitalizzazione e da sotto questo aspetto chi meglio di voi ING sappiamo benissimo la prima banca online a entrare sul mercato italiano quindi chi meglio di voi può darci una view in questo senso ecco andando proprio su ING Italia cosa era il distintivo il vostro modello ma io credo è impossibile non citare il gruppo d'appartenenza parliamo di una banca sistemica tra i principali gruppi bancari al mondo di grande solidità con un'ottima redditività che cresce presente in praticamente tutti i continenti e che da tempo ha scelto l'Italia come mercato elettivo di assoluto interesse come ricordavi tu la prima banca digitale in Italia significa non soltanto essere stati primi a portare il consumo finanziario digitale in Italia ma anche diciamo la banca completa che ad esempio ha passato la soglia critica del milione dei clienti e la rete noi abbiamo una rete fisica una rete agenziale ne abbiamo puntato sugli agenti per la nostra presenza fisica nel 2021 abbiamo deciso di chiudere alcune filiali proprio per puntare ancora più decisamente su questo modello che è quello in cui crediamo cosa ci rende distintivi io credo la completezza di gamma noi abbiamo oggi nel nostro scaffale i nostri agenti hanno disposizione nel nostro scaffale il nostro prodotto principale quello dove noi mettendo un attimo da parte l'umiltà pensiamo di essere particolarmente bravi sono i mutui ma insieme a questi noi abbiamo prestiti personali conti correnti conti deposito cessione del quinto da qualche mese a questa parte stiamo muovendo i primi passi tutte le carte di pagamento ed è notizia di questi giorni a breve nelle prossime settimane anche i prodotti di investimento quindi l'idea di one stop shop la famiglia che interagisce con il nostro agente ha possibilità di veder curato tutto il proprio ciclo di vita finanziario e gestite tutte le esigenze e noi crediamo che questo sia un vantaggio importante per i professionisti che scelgono INGE perché possano servire i loro clienti fino in fondo Giovanni uno dei temi che tu hai citato entrambe le risposte alle prime due domande di questa nostra conversation è sicuramente la centralità della vostra rete vi ripercorro brevemente noi ci eravamo conosciuti in occasione del lancio della vostra accademia dedicata a formare poi i professionisti del credito abbiamo fatto una bellissima intervista che abbiamo pubblicato sulla nostra PLTV e sempre a sostegno della rete è notizia di questi giorni praticamente avete deciso di offrire a tutti i vostri agenti e i financial advisor una copertura sanitaria integrativa ecco io ti chiederei Giovanni se tu puoi brevemente raccontarci di questa iniziativa e ne approfitto anche per chiederti se puoi darci anche poi in quest'ottica un flash su quello che poi saranno i vostri piani di crescita per il futuro a Berico ci sono i termini tecnici agenti agenti in attività finanziaria mandante mandataria per noi ci sono le donne e gli uomini della rete e sono al centro e tutti naturalmente si possono riconoscere in questa frase praticamente però significa che noi abbiamo scelto di proteggerli che la salute è un tema importante cosa significa che tutti i nostri agenti attivi hanno beneficiano di una copertura molto interessante direi di base della loro salute e poi c'è un'offerta che in base alla crescita delle loro performance arricchisce ancora di più questo pacchetto d'offerta siamo orgogliosi di questo ed è il primo passo perché in testa abbiamo il welfare quindi stiamo portando nel mondo agenziale delle logiche che sino oggi sono state tipiche ed esclusive del mondo del lavoro dipendente abbiamo dei progetti ambiziosi e non lo nascondo insomma noi abbiamo finito nel 2022 con una crescita di 70 nuovi agenti la maggior parte di questi professionisti senior a novembre avevamo fatto a tempo a chiudere la nostra aula di circa 15 agenti e abbiamo subito rifarne un'altra quindi abbiamo cominciato subito a sprombattente e l'obiettivo che abbiamo appunto è questo crescere in maniera significativa offrendo tutto quello che ho raccontato e diventando sempre di più un polo d'attrazione ma con l'obiettivo finale di davvero rendere i clienti di Inge soddisfatti e loro sono il faro la stella polare che deve orientare le scelte e la quotidianità di tutti noi mi sembra una bellissima frase di chiusura Giovanni io mi permetto di farti i miei complimenti per questa iniziativa che avete lanciato a favore dei vostri delle persone degli uomini e delle donne che compongono come dicevi giustamente te l'area dei D&G perché giustamente trattandosi di professionisti siamo abituati nel mondo dei dipendenti c'è comunque una copertura ma nel mondo dei liberi professionisti perché si tratta di liberi professionisti una copertura sanitaria un sostegno in questo caso ovviamente può dare una grossa mano considerando che un libero professionista detto banalmente se la mattina non si alza e tira su la Claire non guadagna io ti ringrazio veramente Giovanni grazie a te per questo interessante intervento quindi ringrazio ancora Giovanni Rossi Head of Human Connections Tribe di ING Italia per essere stato qui con noi presente nei nostri PLTV Studios per questa edizione 2023 Leadership Forum TV Show grazie Giovanni grazie Intermediazione Creditizia sempre protagonista in questo nostro Leadership Forum TV Show sedicesima edizione continuiamo quindi questo nostro topic di approfondimento io ho il piacere di avere con me un ospite in studio che vado a presentare Fabio Ciferri amministratore unico di Compass Link al quale do il benvenuto e ringrazio per essere qui con noi presente oggi grazie a voi per l'invito e un carissimo saluto agli amici di PLTV grazie ancora Fabio allora abbiamo avuto il piacere di ascoltare in un talk show precedente Claudio Brambila responsabile della cessione del quinto di Compass che ci ha un po' illustrato quello che è il modello distributivo di Compass la domanda che ti faccio Fabio in qualità di amministratore appunto unico di Compass Link è chi è Compass Link come nasce e quali sono i prodotti che ha a catalogo questa rete è una domanda abbastanza complessa partiamo subito partiamo subito forte allora iniziamo a dire chi è Compass Link Compass Link è una società interamente partecipata da Compass Banca è un agente in attività finanziario che opera sul territorio per il tramite di collaboratori ovviamente iscritti all'OAM abilitati all'offerta fuori dai locali commerciali nasce da un'esigenza della proponente Compass Bank che è quella di meglio coprire quei territori dove geograficamente è più difficile intercettare la domanda in un mercato sempre più connesso dove tutto o quasi si può concludere a distanza Compass Link ha investito e investirà sull'offerta diretta dove un nostro collaboratore si reca a casa del cliente per consigliare l'offerta più adatta alle esigenze di quest'ultimo mi sembra assolutamente un modello molto molto peculiare ecco Fabio puoi darci come siamo organizzati come siamo organizzati ci perdevamo la domanda è lunga infatti l'avevi detto che era una domanda complessa hai ragione scusami come siamo come siamo organizzati come è organizzata Compass Link è organizzata sul modello degli hub virtuali ogni hub è costituito da 4-5 collaboratori che opera a supporto di quei clienti che risiedono lontano dagli sportelli Compass clienti che storicamente hanno fatto registrare una perdita di performance lato Redemption ma opera anche a supporto di quei clienti che risiedono presso vicino alle filiali Compass che per svariati motivi si pensa un pochettino a esigenze di orario richiedono una consulenza domiciliare per quanto attiene invece i prodotti e questa è l'ultima parte della domanda cosa posso dire che Compass Link gestisce un'ambia gamma di prodotti si va dal prestito personale alle carte di credito alla cessione del quinto dello stipendio e della pensione e da circa sei mesi i nostri collaboratori distribuiscono sul territorio anche Pagolite Pagolite è una nuova forma tecnica del consumer factoring che consente all'esercente abilitato quindi al commerciante abilitato di concedere ai suoi clienti una dilazione completamente gratuita e di cedere il credito che ne deriva a Compass Bank quindi per concludere la domanda usciamo sul mercato con un'offerta molto molto ampia e diamo ai nostri collaboratori la possibilità di fluire di sales lead veramente a valore Perfetto hai ragione effettivamente la domanda era molto molto complessa e necessitava giusto di una perfetta spiegazione come quella che tu ci hai fornito e per quale ti ringrazio Ecco la domanda che viene spontaneo a seguire tu ci hai raccontato un po' l'organizzazione i prodotti come nasce questa rete io volevo chiederti qualche numero sull'attività di Compass Link se potevi darci qualche numero a riguardo Iniziamo da quando è nata Compass Link è stata costituita a maggio 2021 e a luglio dello stesso anno è stata iscritta in OAM Il 31 luglio sempre del 2021 abbiamo perfezionato a concluso Compass Link la prima richiesta di finanziamento per il tramite di un linker così noi chiamiamo i nostri collaboratori che sono abilitati all'offerta fuori dai locali commerciali Per quanto attiene invece i risultati commerciali posso semplicemente dire che Compass Link nei primi 18 mesi ha rapidamente superato tutte le attese del piano industriale e giusto per dare qualche numero nel mese di gennaio 2023 Compass Link ha concluso oltre 750 finanziamenti per 9 milioni circa Sembra un ottimo risultato complimenti Fabio per per quei risultati che appunto avete raggiunto praticamente in un lasso brevissimo di tempo perché se ci dicevi luglio 2021 siamo praticamente all'inizio del 2023 si parla di un anno e mezzo diciamo siamo poco più di una start up in questo momento però abbiamo accelerato i tempi eh no avete accelerato e avete conseguito comunque dei risultati che mi sembrano molto molto importanti e significativi ecco tu ci hai raccontato un po' di questa rete quindi questo Compass Link agente di attività finanziaria questi collaboratori che operano sul territorio distribuiti secondo ovviamente la logica che tu ci raccontavi quindi dove c'è magari una zona poco presidiata dove c'è necessità di avere appunto un agente quali sono però le peculiarità in questo senso di questa rete? ma questo è più semplice ok qui andiamo sceltenendo siamo quasi eh certamente l'imprinting di Compass Banca Compass Link beneficia di tutto il know-how di Compass Banca e ne eredita anche quei driver motivazionali che sono uno dei segreti del successo della rete commerciale di Compass entusiasmo coinvolgimento dei nostri collaboratori è il fattore discriminante per fidelizzare il cliente e creare valori noi con i nostri collaboratori abbiamo avviato stiamo costruendo un percorso di crescita virtuoso e proficuo investendo tantissimo sulla loro formazione e sulla loro crescita professionale creando un ambiente di lavoro equo e rispettoso valorizzando le diversità e favorendo la collaborazione tra i vari membri del team immagino un hub che ci sono 4-5 collaboratori che in ogni caso collaborano e si scambiano informazioni ed esperienze perfetto senti a questo punto la domanda viene ovviamente scontata ci ha raccontato come nasce Compass Link quali sono i prodotti come si svolge la sua proprietà e le peculiarità della rete guardando invece un po' al futuro quindi ti direi con un orizzonte 2023 l'anno che ha appena iniziato ma ovviamente anche con un orizzonte più ampio quali sono i prossimi passi e soprattutto gli obiettivi che volete raggiungere bene limitiamoci però al 2023 come hai giustamente detto abbiamo accelerato i tempi quindi in questo momento vogliamo darci degli obiettivi a breve e il nostro obiettivo è quello certamente di completare la rete dei collaboratori abilitati all'offerta fuori dalle quelle commerciali e poi rafforzare le altre due linee di business che abbiamo lanciato nel corso del 2022 si tratta del canale co-branding insurance e del canale co-branding service ambi due i canali sono specializzati nell'offerta all'interno dei locali commerciali per darti un numero nel 2023 contiamo di coinvolgere in questo progetto altri 100 collaboratori permettimi però di concludere recuperando una frase di Darwin che ritengo abbia delle forti verità non è non è la persona non è la specie più forte che sopravvive né quella più intelligente ma quella che si sa adattare meglio ai cambiamenti e compass link nel mondo dell'intermediazione del credito è sinonimo di cambiamento ti ringrazio Fabio anche per aver chiuso con questa bellissima frase di Charles Darwin frase che condivido appieno e ti ringrazio ti ringrazio davvero per averci illustrato chi è compass link come opera compass link a noi a me qui presente nei nostri Piali TV Studios e per tutti quanti i nostri spettatori che sono collegati che stanno seguendo oggi questa seconda giornata di questa sedicesima edizione del nostro Leadership Forum TV Show grazie ancora Fabio di nuovo grazie dell'invito continuiamo allora questo nostro topic di approfondimento dedicato alle case history relative alla intermediazione creditizia e per me è un piacere aprire un collegamento da remoto lo vedo già in collegamento ed è Luigi Arigliano il direttore commerciale di Banca Popare Pugliese che ringrazio per la sua disponibilità grazie a voi grazie per l'invito grazie per per lo scambio che ci consentite periodicamente di fare con l'organizzazione degli eventi di incontro fra operatori del mercato ecco andando all'interno del topic di questo topic sia il ruolo delle reti agenziali nello sviluppo del credito alle famiglie appunto qual è l'esperienza di Banca Popare Pugliese partendo appunto dal titolo Luigi ecco gli ultimi anni sicuramente si può dire sono stati anni particolari unici dettati appunto dalla pandemia e quando poi pensavamo fosse armare le spalle la pandemia abbiamo tutto quello che è stato legato all'incertezza geopolitica col conflitto russo-Ucraina ecco la mia domanda in questo senso è guardando questi ultimi anni come è cambiata un po' l'operatività delle reti beh direi che è drasticamente cambiata perché diciamo la necessità di rimediare o di porre un rimedio al distanziamento che ha coinvolto tutti i settori ma in particolare il settore finanziario ha un po' accelerato dei programmi che in tutto il sistema già in qualche modo esistevano quelli della diciamo trasformazione dei processi che da cartacei diventavano sempre più digitalizzati però non mi vorrei soffermare solo su questo cioè quello che è avvenuto in questi ultimi anni quindi dal da inizio 2020 ad oggi non è semplicemente quello di aver sostituito un processo cartaceo in digitale a nostro avviso si è completamente rivisto tutta la catena del valore nella gestione della consulenza per quanto riguarda il credo alle famiglie è stato dato soprattutto alle reti agenziali un grande supporto in termini di contatto con la clientela e in termini di supporto consulenziale per cui vorrei dire che la digitalizzazione o la trasformazione dell'intero processo in digitalizzazione ha consentito sicuramente un'amplificazione del ruolo e una presenza più consistente sul mercato vado a citare un'ultima ricerca dell'organismo agenti e mediatori che vede proprio nei clienti più digitalizzati coloro che preferiscono il rapporto con le reti di agenti in attività finanziaria questo ve lo possiamo confermare perché la nostra esperienza di banca popolare che da circa un ventennio ha costituito una rete di agenti in attività finanziaria ha visto proprio negli ultimi anni una situazione di maggiore presenza sulle attività della nostra banca e quindi abbiamo anche assistito a un miglioramento di tutte le fasi di processo quindi non vorrei dire solamente abbiamo trasformato la carta con la digitalizzazione ma abbiamo reso un servizio di maggiore consulenza alla clientela abbiamo senz'altro fornito alla rete di agenti di attività finanziaria degli strumenti di accesso alle varie piattaforme di consulenza di lavorazione delle richieste di finanziamento alle famiglie più snelle più fluide e più integrate nei sistemi informativi della banca non da ultimo abbiamo consentito anche alla banca stessa di essere più aderente al presidio del processo in termini sia operativo che anche di conformità normativa quindi rispetto della normativa sulla trasparenza piuttosto che della product governance devo dire che questi tre anni ci hanno consentito di migliorare nettamente il rapporto con il mercato in estrema sintesi possiamo dire che il forte stress a cui tutto il sistema si è dovuto confrontare in questi anni ha restituito e sta continuando a restituire sicuramente maggiore capacità e maggiore qualità nel servizio alla clientela di questo ne siamo certi e ne vediamo anche i risultati non solo sotto il profilo quantitativo ma anche sotto il profilo qualitativo che è un aspetto assolutamente molto molto importante io sono d'accordo Luigi con te abbiamo dato anche noi la 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 che ha lanciato appunto l'organismo per la vigilanza sugli agenti mediatori qui appunto si diceva che appunto i clienti più digitalizzati poi preferiscono il contatto diretto con le reti però perché sono d'accordo con te la digitalizzazione non è solamente poi la sostituzione veramente della carta come si diceva ma anche dare appunto nuovi strumenti mantenendo comunque al centro quello che è il ruolo del consulente nel suo appunto offrire una consulenza qualificata quello che poi sono le esigenze e i bisogni del cliente finale ecco qualcosa tu ci avevi già accennato Luigi nella tua prima risposta io come dicevo in apertura sicuramente gli anni della pandemia sono stati anni che hanno dato un grande impulso alla digitalizzazione e alla revisione dei processi l'ultimo anno diciamo che non è stato da meno in quanto a difficoltà perché abbiamo comunque assistito a mi viene in mente all'aumento dei tassi senza precedenti non so mi sembra si parlasse non so se era tipo dagli anni 50 che non si vedeva un aumento consistente così dei tassi di interesse ecco in quest'ottica ti chiedo come le reti possono traguardare in questo particolare momento di mercato come possono attraversare questo particolare momento di mercato e quali sono le azioni che la banca che voi come banca mettete in campo a sostegno della loro operatività beh ti ringrazio per questa domanda perché forse è la domanda un po' più complicata alla quale rispondere cioè il 2020 e il 2021 sicuramente ci hanno caratterizzato per un'emergenza sanitaria mondiale 12 mesi fa quando noi abbiamo iniziato il piano commerciale del 2022 avevamo sì previsto una risalita dei tassi negativi ma come tutti noi insomma pensavamo che questa risalita fosse graduale e soprattutto spostata nella seconda parte dell'anno per vari motivi questo non è stato così assolutamente abbiamo letto tutti quanti una repentina crescita di tutti i parametri di mercato già nella prima parte dell'anno abbinata a una inflazione galoppante che stende ancora a rallentare quindi le due cose fra di loro si sono un po' inseguite e devo dire che ancora oggi non vediamo una una situazione che ci possa consentire di dire che abbiamo alle spalle questa fase assolutamente siamo probabilmente nel pieno di questa fase da questo punto di vista io ritengo che il ruolo di qualsiasi banca in particolare di ruolo di una banca che attraverso una rete agenziale ha il rapporto e la presenza sul mercato diventa ancora di massima responsabilità perché sappiamo che abbiamo da una parte la gestione della domanda del credito da parte delle famiglie che in qualche modo non può essere assolutamente neutro rispetto a quello che succede intorno e dall'altra abbiamo anche il supporto costante da fornire alla rete di agenti di attività finanziaria che ovviamente è specchio riflesso di quella che è la situazione quando i tassi aumentano e correttamente hai detto tu che una crescita così veloce almeno noi non l'abbiamo mai vissuta risale al primo dopo guerra e quando l'inflazione cresce e a questa inflazione non seguono gli adeguamenti dei reti come è giusto che sia chiaro che il credito ha dei contraccolpi il primo nella domanda o nella corretta gestione della domanda l'altro è in quello che abbiamo fatto prima cioè la capacità di verificare se quello che abbiamo fatto prima resiste anche a scenari molto molto particolari come quello dell'amento repentino dei tassi da questo punto di vista devo dire che il rapporto con una rete agenziale deve essere ancora più intenso e di costante allineamento sulle dinamiche interne e esterne e su questo devo dire che Banca Popolare Pugliese non ha mai fatto mancare questo tipo di sostegno quindi la capacità di raccontare le dinamiche del mercato e di far diventare ogni singolo agente portatore anche presso la propria clientela di quello che sta accadendo quindi definire un poco quelli che sono i scenari per quanto ovviamente nessuno di noi riesce ad avere un orizzonte elettorale molto lungo ma quello di essere consapevole di che cosa sta accadendo quindi il primo punto su cui noi lavoriamo sempre ma in questa fase abbiamo voluto lavorare un po' di più è quello di creare dei tavoli tecnici di analisi del mercato per condividere con i nostri agenti le dinamiche appunto dei mercati finanziari e di tutto quello che ne è il riflesso il secondo punto è quello di adeguare velocemente sia l'offerta per quanto riguarda l'adattamento non solo sui tassi ma anche sulle formule in particolare dei muti residenziali perché per consentire insomma di canalizzare al meglio le richieste e di evitare appunto di avere delle situazioni di asincronia fra la domanda e la possibile offerta della banca questo l'abbiamo fatto lavorando intensamente verso la prima metà dell'anno del 2022 ma per tutto il 2022 innovando in maniera drastica le formule a disposizione delle clientela una fra tutte vi dico il tasso variabile è la rata costante che devo dire che è apprezzato da una parte della nostra clientela insieme ovviamente al mantenimento e catalogo delle altre formule sia di tasso fisso che di tasso variabile per i pubblicati l'altro devo dire che insiste anche sulla stessa rete oltre che sulla banca che sulla banca del presidio delle situazioni di criticità dei clienti in estera quindi questo da parte nostra diventa uno dei punti fondamentali e qui devo dire che proprio in questi momenti di stress si può verificare la corretta selezione del rischio di credito tutti noi sappiamo che lo scenario avverso è uno fra gli elementi di valutazione della selezione del rischio è chiaro che lo scenario avverso che si sta verificando probabilmente era imprevedibile però devo dire che da questo punto di vista sicuramente noi abbiamo nel tempo creato un po' gli anticorpi per cui un nostro cliente debba avere a patire una situazione di fortissimo innalzamento dei tessi ecco questo è un po' la conferma che seguendo il mercato seguendo anche supportando la rete ma seguendo anche la normativa probabilmente le tre cose non conflitcono anzi vanno nella stessa direzione da questo punto di vista probabilmente possiamo affermare che la situazione quindi i risultati commerciali che abbiamo sia avuto nel 22 che stiamo avendo nei primi passi del 2023 ci danno conferma che tutto sommato la previsione degli andamenti di mercato piuttosto che il fornire e mettere a disposizione degli agenti qualsiasi possibile sostegno ci consente di poter guardare con attivismo anche quest'anno in 2020 questo penso che sia uno dei patti non scritti di potere agenziali laddove la banca deve continuare a fare il proprio testiere quindi selezionando il meglio il rischio allo stesso tempo essere presente sul mercato e canalizzare al meglio la domanda di credito che c'è è vero che questa domanda di credito sta subendo diciamo delle contrazioni rispetto alla spazio ma però il nostro compito è quello di migliorare e di valorizzare quello che c'è perfetto grazie mille Luigi per questa tua analisi dicevi giustamente nessuno di noi ha la sfera di cristallo quello che è successo l'anno scorso era difficilmente prevedibile io a questo punto ti farei una domanda una domanda un po' provocatoria tra virgolette e secondo te quali saranno le possibili evoluzioni nei modelli agenziali come saranno le reti agenziali del futuro beh abbiamo detto che la palla di sfera non ce l'ha nessuno esatto però possiamo possiamo affermare che da quello che si osserva sul mercato un po' la revisione del modello distributivo delle grandi banche quindi la modifica della presenza delle grandi banche abbinata anche alle corrette riflessioni che tutte le banche stanno facendo sul come relazionarsi sul mercato vede la figura della gente un po' centrale rispetto nella nostra visione di Banca Popolare Pugliese noi siamo partiti in buon anticipo rispetto alle dinamiche di mercato quindi questo ci consente di avere quel minimo di esperienza per mettere a punto dei programmi di adattamento che normalmente si fanno quando il sistema cambia partiamo innanzitutto dalla Banca Popolare Pugliese che è l'esperienza che personalmente conosco meglio rispetto alle altre è chiaro che ogni banca ogni finanziaria ogni struttura che opera in questo mercato deve fare una scelta di modello coerente con le proprie strategie però io immagino che il modello agenziale possa in questo momento godere anche di una prospettiva positiva se assistita ovviamente in un contesto di strategia da parte della mandante di medio o lungo pericolo programmi e progetti di breve periodo in questo ambito non hanno grande successo proprio perché la costruzione e la manutenzione e lo sviluppo di una rete agenziale prevede giorno per giorno degli affinamenti e degli imparamenti quello che possiamo affermare è che il credito alle famiglie per quanto ci riguarda ha sempre rappresentato un'area di mercato molto importante ecco perché la scelta anche di potenziarne la presenza attraverso una rete di agenti di attività finanziaria qui devo dire che l'esperienza che vi porto come banca pubblica popolare pugliese non è tanto la presenza sul territorio in supporto alla gente nella sua continuata operatività che non è solamente quella di consulenza ma quella anche di organizzazione del lavoro quella di ricerca del cliente di ottimizzazione anche di ricerca del cliente qui devo dire che l'esperienza di banca popolare pugliese è quella di aver fatto sinergia di metodologia a livello di direzione cosa voglio dire la capacità quindi di mettere a fattor comune le esperienze che ogni canale distributivo all'interno di banca popolare pugliese ha è quella di trasferire questa metodologia fra i vari canali per consentire ad ogni canale di lavorare nell'ambito della banca con i migliori strumenti e la migliore metodologia se nell'ambito della strategia delle altre banche c'è anche questo devo dire che non è semplice e devo dire che ogni giorno deve essere accompagnato da una verifica sul campo di quelle che sono le esigenze e quindi possiamo dire che ogni giorno c'è la possibilità di migliorare e di innovare ecco chi lavora come banca nell'ambito delle redi agenziali a questo al centro delle proprie attività sicuramente avrà la possibilità insomma di essere presente nel prossimo futuro perfetto grazie grazie mille a Luigi Arelliano direttore commerciale della banca popolare pugliese per gli interessanti contenuti per il contributo portato oggi al nostro leadership forum tv show grazie ancora Luigi grazie a voi vi auguro buona giornata buona giornata a tutti se la personal credit presenta appago caro esercente hai mai pensato cosa succederebbe se lo smart post banca sella che hai già potesse fare di più per i tuoi clienti da oggi appago è lo strumento che ti permette di offrire ai clienti pagamenti leggeri con una procedura semplice e snella se hai già uno smart post banca sella non ti servono altri post e non raddoppi il tuo canone basta l'app potrai proporre ai tuoi clienti di dilazionare gli acquisti fino a 12 mesi senza interessi senza dover presentare la busta paga né i documenti di identità per acquisti fino a 500 euro tu incassi subito senza rischi per te solo vantaggi così anche il tuo cliente ha pagato grazie al tuo smart post banca sella e ad appago pagamento dilazionato acquisto assicurato essere una compagnia assicurativa significa mettere al centro il valore di ogni singolo cliente CF significa credito e famiglia da sempre i nostri pilastri ed è per questo che noi del gruppo CF Assicurazioni mettiamo al centro la serenità delle famiglie italiane e non ci stanchiamo mai di migliorare siamo una realtà dinamica nata da valori comuni che ogni giorno si impegna per garantire nuove opportunità e nuovi processi produttivi siamo in continua evoluzione per essere competitivi siamo veloci per affrontare le sfide di tutti i giorni siamo digitali per non lasciare le opportunità alle spalle e per migliorare la vita dei nostri intermediari siamo trasparenti perché operiamo ispirati da principi di legalità e correttezza siamo fatti di storia ma viviamo già nel domani sosteniamo con professionalità i nostri clienti e la nostra rete di vendita perché la loro serenità è il nostro obiettivo signora Giorgini l'avevo scossa l'auto mi ha abbandonata però ne ho appena visto una nuova tutta elettrica ma come faccio? vado da Compass dovrò andare a piedi per un po' un giorno da Compass per un prestito basta un giorno tu prestito di così? vieni in filiale da Compass per un prestito basta un giorno ogni giorno big decisions are made without full information overloaded by data compounded by complexity made in the dark without relevant insight and advice better decisions are made in the light full context all the facts with clarity and confidence so organizations and the people they rely on are protected and able to grow Aeon is in the business of better decisions Crediamo nel gioco di squadra crediamo nel valore delle persone crediamo nelle consulenze mirate e nelle soluzioni pensate su misura crediamo nel valore della responsabilità e sostenibilità delle proprie scelte fai gol con FinContinuo per raggiungere i tuoi sogni non ti resta che crederci FinContinuo il prestito dei campioni oltre 70 super ospiti rappresentanza delle maggiori banche compagnie e società attive nel mercato del credito italiano 12 talk show decine di interviste per più di 14 ore di diretta streaming Tutto in due giorni in cui si è parlato di presente e futuro del business sono i numeri del Leadership Forum TV Show 2023 di EMF Group seguito in esclusiva da PLTV in onda sulla piattaforma online dell'evento e per la prima volta anche sul digitale terrestre sul canale 63 di GM24 Sella Personal Credit Platinum Sponsor di dibattiti e conversation attorno ai risultati raggiunti da istituti mediatori broker i loro prodotti e servizi e gli obiettivi per l'anno in corso per il settore della cessione del quinto e del mondo dei prestiti in generale sul sito tutte le videoclip con le discussion e le interviste ai protagonisti dell'evento di domenicare per l'evento e le interviste anche per l'evento operazioni sono i altrui che si può leadership forum tv show 2023 di nuovo in studio su PLTV per parlare di mutui e digitale, lo facciamo insieme a due graditi ospiti Massimo Campani e Carmine Noviello entrambi team manager di Avera buongiorno, grazie di essere qui con noi il digitale, dicevamo il fintech è stato uno degli argomenti principali del nostro tv show, un fenomeno che ha cambiato il mercato del credito sia per chi ci lavora, per chi ne fa una professione e sia per la clientela cominciamo con il dottor Massimo Campani a cui chiedo come è cambiata appunto l'attività dell'agento in mutui con l'avvento della tecnologia allora grazie della domanda innanzitutto come società Avera è investito molto nel digitale tant'è che nel 2021 ha ricevuto il premio da parte di Aby come per il progetto Avera adesso come diciamo la migliore innovazione legate appunto al digitale nelle richieste di mutuo è cambiato praticamente tutto perché se una volta la gente doveva adoperarsi quindi fare chilometri fare strada con tutto quello che chiaramente ne concerne questo tipo di attività oggi semplicemente insomma come siamo seduti noi qui su una poltrona comodamente dall'ufficio piuttosto che il cliente in casa si riesce a gestire anche una consulenza col cliente a distanza quindi ha avvicinato molto e ha accelerato molto quelli che sono chiaramente i vari processi a questo abbiamo aggiunto come dicevo prima la possibilità da parte dei clienti di firmare tutto in digitale chiaramente complice post pandemia tutto quello che c'è stato quindi quello che è stato messo a terra riguardo inerente allo speed quindi la facilità che le persone hanno avuto per accedere chiaramente a tutto quello che è il fattore del riconoscimento a distanza insomma è cambiato veramente veramente tanto per chi come noi fa questo insomma mestiere ormai da diversi anni diciamo che è aiutato ha aiutato parecchio ha permesso anche soprattutto a persone che magari in un frangente dettato appunto da circostanze come possono essere state quelle legate alla pandemia il covid di magari vivere e continuare ad operare senza vedersi precludere quella che è stata la propria attività perché banalmente anche abbiamo chiaramente all'interno agenti donne che per fortuna per noi diciamo uomini hanno hanno avuto la gestione quasi totalitaria di quello che è la famiglia ha permesso chiaramente il digitale a loro di poter gestire ambo le cose quindi la famiglia che è composta magari da figli o persone diverse pur mantenendo quella che è diciamo l'attività legata al mondo agenziale ha dato una mano un po' a tutti un premio ve l'abbiamo dato anche noi non solo l'ABI il premio proprio per i risultati raggiunti nei mutui al leadership forum allora volevo chiedere al dottor Carmine Noviello ecco lato agenti questa tecnologia questa digitalizzazione come e quali opportunità vi ha dato perché si parte sempre da una grande conoscenza che è necessaria della materia una grande competenza riguardo il mercato del credito però è anche diventato nell'operatività un pochino più intuitivo insomma fare l'agente ha semplificato il lavoro insomma anche a livello operativo è così? assolutamente sì diciamo che l'avventura del digitale ha molto semplificato il lavoro dell'agente in attività finanziaria in mille aspetti pensiamo innanzitutto all'operatività la consulenza l'istruttoria della pratica consideri che noi oggi non abbiamo la necessità di stampare e quindi la normativa impone firmare molteplici moduli e oggi lavorare in digitale significa non usare carta essere molto più veloci nella risposta da dare al cliente perché nei momenti in cui ho raccorto la pratica anche dal punto di vista documentale la trasmissione al BPO è telematica quindi in tempo reale anche perché ricordiamo il vostro sistema è integrato a quello della banca quindi veramente è cartaceo zero possiamo dire anche dal punto di vista ambientale assolutamente sì diamo una mano all'ambiente perché non usiamo carta non usiamo toner per le stampanti e quindi questo processo mette in condizione la rete di essere anche più tempestiva nelle risposte perché questa è una grossa esigenza del cliente avere una risposta veloce rapida per concludere l'acquisto aggiungerei anche se posso nei confronti della clientela anche una massima trasparenza perché la modulistica che chiaramente i clienti devono sottoscrivere firmare ma prima visionare hanno appunto la possibilità di scaricarsela cioè leggersela con calma comodamente in ambito familiare quindi senza rapidità e semplificazione e semplificazione oltre alla trasparenza che riusciamo comunque a dare che genera poi di riflesso tranquillità nei confronti dei clienti quindi se prima c'era un po' di scetticismo magari da parte della clientela quando venivano a firmare perché c'erano quelle famose clausole quelle postille quelle cose scritte in piccolino insomma adesso diciamo che proprio il dottor Noviello prima mi faceva vedere una foto di un collega che mostrava una pratica di mutui nel 2017 quindi anche molto prima della pandemia era un fascicolone così che oggi è completamente sparito volatilizzato assolutamente sì ma poi aggiungo l'opportunità che ha per esempio un giovane che approccia per la prima volta alla nostra professione di avere un sistema molto più intuitivo nella gestione dell'operatività della pratica perché in digitale noi non siamo solo lato cliente ma anche lato interno perché facciamo corsi di formazione in continuo in digitale quindi dal punto di vista formativo anche assolutamente è stato un ottimo strumento volevo restare ancora su lei dottor Noviello passando proprio appunto dal lato cliente allora adesso facendo una piccola differenza territoriale perché lei si occupa dell'area sud mentre invece il dottor Campani dell'area nord a questa digitalizzazione c'è stata una differenza di risposta da parte dei clienti al sud e al nord cominciamo dal sud Noviello ma allora devo dire innanzitutto che l'avvento del digitale ha ha creato nel da parte della rete una facilità operativa dettata anche da esigenze di carattere territoriale perché pensiamo per esempio alla Sardegna per fare un esempio dove le distanze da coprire sono decisamente più ampie le strade con strade magari meno comode diciamo che le vostre non sono comodissime ma le nostre sono intasate quindi risparmio di tempo diciamo che fatta di necessità virtù l'avvento del digitale ha migliorato la vita della gente ma anche del cliente perché spesso il cliente per andare in banca perché è una consulenza di un mutuo deve prendere un permesso al lavoro magari non riesce a conciliare i tempi tra marito e moglie perché magari uno può il pomeriggio l'altro la mattina e quindi chiaramente anche lato cliente hanno apprezzato decisamente i clienti ogni giorno ci testimoniano di apprezzare il processo digitale perché spesso magari viene a parlare il marito mentre la moglie resta a casa poi quando si tratta di apporre le firme non sono costretti a ritornare quindi una buona risposta assolutamente sì e invece Campani per il nord? per il nord è un po' quello che ci aspettavamo quindi la parte diciamo più giovane chiamiamola così definiamola così quindi più avvezza all'uso del digitale ha risposto in maniera appunto come dicevo come ci aspettavamo in maniera celere e pronta sono rimasto molto sorpreso da quella parte diciamo di clienti di persone che comunque non sono pur chiaramente non più giovanissime e hanno diciamo ripeto mi hanno meravigliato mi hanno sorpreso proprio da questa tranquillità da questa facilità da questo probabilmente anche un processo facile intuitivo che ha permesso loro comunque di pronta ad usare il mezzo sì assolutamente perché poi al di là delle differenze territoriali poi ci sono anche delle differenze all'interno dello stesso territorio di carattere anagrafico generazionale esattamente non c'è stato questo grosso gap non ho avuto questo grosso gap diciamo nella fase chiaramente di start up iniziale anche noi abbiamo dovuto per forza di cose quindi parlo lato agenti imparare cioè quello che erano comunque l'utilizzo di questi strumenti ma lì chiaramente con i corsi come diceva Carmine prima con i corsi di formazione con le attività che abbiamo messo in piedi che ho messo chiaramente a vera disposizione è stato facile è stato veloce chiaramente complice l'impossibilità in un determinato periodo anche semplicemente di poter uscire di casa perché come ci ricordiamo ci ha permesso come ho detto prima di continuare ad operare in un momento io lo definivo chiaramente tragico lavorativamente parlando perché poteva compromettere chiaramente l'attività di tante persone invece ha permesso loro comunque di sopperire a queste diciamo problematiche i ragazzi parlo dei ragazzi quindi gli under 36 visto che comunque c'è anche riferimento oggi a delle agevolazioni che hanno insomma sono stati io li definivo spidi di Gonzales per apprendere tutti questi passaggi e processi e l'utilizzo del digitale ha accorciato notevolmente perché prima parlavate del non diciamo utilizzo della stampante che ha permesso di non far viaggiare diciamo il dossier quello che diceva prima Carmine con posta quindi poi con un semplice corriere ma tutto online quindi anche la possibilità da parte del cliente di interagire all'interno della propria pratica perché abbiamo creato uno strumento per il quale un'app web dove il cliente può entrare e caricarsi anche in autonomia quella che è la documentazione quindi ha diciamo avvicinato molto la nostra attività proprio a tu per tu col cliente ho capito abbiamo ancora qualche minuto volevo chiedere anche lei l'ultimissima battuta al volo dottor Noviello se anche lei al di là della differenza territoriale dal punto di vista generazionale anagrafico non ha riscontrato tutta questa nostra differenza anche per quanto riguarda il soldo assolutamente i colleghi più maturi hanno approcciato al metodo digitale con assoluta disinvoltura ma fare un passaggio anche lato cliente perché spesso dall'altro lato magari c'ha il genitore garante che è un po' più anziano magari non avvezzo alla tecnologia ma lì creare la firma digitale che noi ovviamente offriamo in maniera gratuita si fa in un minuto con lo speed e oggi oggi è diventata una pratica la maggior parte delle persone hanno uno speed anche nell'uso quotidiano insomma personale per cui attiviamo la firma in maniera assolutamente gratuita e in pochi minuti per cui anche la persona anziana riesce a firmare tutta la modulistica che deve firmare comodamente seduto a casa sua anche col telefonino non è necessario nemmeno l'utilizzo di un pc e andrà sempre meglio poi perché gli anziani di domani saremo noi aggiungiamo anche che sempre legato chiaramente a questa attività ha diciamo ci ha avvicinato nuovi agenti una nuova generazione di ragazzi che è complice appunto all'avvento del digitale la facilità dell'utilizzo e quindi anche da parte loro insomma la conoscenza la volontà di capire anche la nostra attività come funzionava ha permesso anche a neofiti definiamoli così di poter iniziare velocemente questa attività bene ringraziamo ancora il dottor Massimo Campani e il dottor Carmine Noviello team manager di Avera grazie a lei e ora cediamo lo studio alla nostra director Marcella Frati grazie Giuseppe Gaetano a questo bellissimo approfondimento sul mondo dei mutui ora signore e signore è venuto il momento invece di approfondire il tema della cessione del quinto in particolare abbiamo qui ospite in studio e in collegamento il management di Banca della Nuova Terra la banca specializzata nella cessione del quinto del gruppo Banca Popolare di Sondrio e ho il piacere di avere con me in studio Gianluca Girale direttore commerciale e in collegamento da Palermo il suo amministratore delegato Umberto Seretti benvenuti ad entrambi innanzitutto Banca della Nuova Terra una realtà che sta prendendo sempre più spazio nel mercato della cessione del quinto beh Gianluca se non ti dispiace io lascerei subito la parola ad Umberto per farci raccontare se è possibile qualche risultato duemila e ventidue come è andata per voi del duemila e ventidue Umberto buongiorno Marcella buongiorno a tutti il duemila e ventidue è stato per la cessione del quinto un anno positivo anche se complicato è iniziato molto forte commercialmente nel primo semestre e è andato progressivamente calando nella seconda parte dell'esercizio il mese di dicembre al livello nazionale ha registrato un meno ove per cento nelle masse erogate l'anno chiuso con un 5% progressivo quindi alla fine c'è stata una crescita bnt in questo contesto ha registrato una crescita del 40% ma quando abbiamo iniziato 6 anni fa siamo sempre cresciuti e abbiamo sempre chiuso in positivo cioè è un conto economico siamo molto soddisfatti siamo molto soddisfatti anche per eccezionali risultati di una mostra al proprio gruppo consolidato a tutti oltre di cento centinaia di ulti nel 2022 con un periodo del 50% dopo averci su stato le comunicazioni e quindi il contesto che ci guarda sia a livello di tutto a livello di bnt è un contesto sicuramente molto produttivo bene bene grazie Umberto ma questi risultati appunto che ci ha appena spiegato l'amministratore delegato Gianluca come li avete fatti cioè a livello di distribuzione so che voi avete adesso una certa multicanalità prego se vuoi raccontarci certo grazie Marcella abbiamo come hai detto una moltiplicità di canali e l'offerta la nostra offerta poggia in via principale sulle 500 agenzie della Banca Popolare di Sondrio che hanno dimostrato nel 2022 e stanno dimostrando anche in questo inizio del 2023 di crederci sempre di più nel prodotto e che è diventato parte della loro offerta quotidiana si è perfettamente integrato abbiamo ambizioni di lavorare ancora più in profondità con tutte le nostre agenzie di capogruppo ma poi sono partiti anche gli altri cantieri quindi accanto ai nostri uffici diretti BNT quelli che abbiamo in Sicilia a Prato a La Mezzia a Napoli ed accanto ancora alla nostra business unit dell'online che devo dire nel 2022 ha performato in maniera particolarmente interessante è partito il mondo delle reti terze della nostra rete diretta questa è la vostra novità del 2022 abbiamo fatto partire ti ricordi ne parliamo in un'intervista e accennavamo a questa progettualità questa progettualità è diventata realtà e quindi oggi collaboriamo con una decina di mediatori creditizi con soddisfazione e poi abbiamo avviato la rete agenziale e soprattutto dei collaboratori di Presti Nuova avendo costituito un agente in attività finanziaria che appunto è Presti Nuova ed oggi siamo arrivati al target di 25 collaboratori fra collaboratori e agenti e confermiamo il target di 50 unità per la fine del 2023 complimenti Gianluca poi ritorno da te prima che Umberto magari si scolleghi quindi vorrei approfittare ancora del suo collegamento da Palermo Umberto tu sei un uomo di grande esperienza nel mondo bancario e finanziario ecco se tu puoi dare una tua opinione un po' dall'alto su come vedi oggi il mercato della gestione del quinto sicuramente è un mercato molto diverso da quando tu hai iniziato a occuparti di questo settore noi ci conosciamo da diversi anni quindi so che quando tu sei arrivato eri un po' un neofita nella gestione del quinto oggi sei direi un esperto come la vedi come pensi che questo mercato si evolverà quali sono le opportunità ed eventuali criticità che tu vedi grazie Marcella la domanda è particolarmente interessante ma è complessa nel senso che le crisi che hanno iniziato i mercati finanziari che poi si sono riberberate nel segmento della città del quinto nel 2023 andranno consolidandosi parlo della necessità dei fondi che si muove una materia prima disponibile a tutti fino a pochi mesi fa e così non è più parlo l'aumento dei taschi che non riguarda solo l'accessione del quinto ma anche l'accessione del quinto è un mercato che non assorbe immediatamente gli incrementi progressivi che ci sono stati con difficoltà a scaricare sul consumatore di questi pubblici di tasse la lezione nessuno ne parla ma secondo me rappresenterà un po' un limite mi insegnerà un mercato perso sul passato rispetto al futuro diversi operatori potrebbero trovarsi in difficoltà nel restituire questi porti incassati nel passato paradossalmente io parlando di BNP vedo tante opportunità più che problematiche vedo la sommatoria di questi problemi costituire un'opportunità per noi da cogliere una forte accelerazione ora nella crescita siamo cresciuti per cento di un mercato che è cresciuto del 5 allo prossimo dobbiamo fare ancora meno come diceva il dittore commerciale Gerardi puntiamo molto sulle reti perse puntiamo molto su questa nuova che il nostro agente io vedo positivo 2023 pur in una situazione come dicevo ripeto estremamente complicata certo vedremo come andrà diciamo sedimentandosi la la molteplicità di questi crisi si parla di questo concetto di policrisi per la prima volta ma non solo il sistema finanziario tocca le nostre crisi e le nostre vite introduce un tema di gratissima incertezza nelle famiglie nei progetti di spesa detto tutto questo in questo in questa situazione in questo ambiente io vedo una grande continuità per BNT il mese di gennaio è andato molto bene commercialmente siamo conosciuti più del doppio rispetto al gennaio del 2020 e quindi anche questo esercizio è iniziato molto bene vabbè insomma se il buongiorno si vede dal mattino come si dice insomma questo anno per voi farà veramente ben sperare ma di questo ne sono sicura perché voi comunque avete un bel brand avete comunque una grande banca dietro alle spalle una banca solida insomma con una bella tradizione un bel management quindi sicuramente farete bene Umberto adesso io passerei la parola qui al mio ospite in studio a Gianluca ecco Gianluca il mercato sicuramente l'accessione del quinto oggi è estremamente competitivo anche perché ci sono comunque tantissime realtà e anche so che quasi ogni mese c'è un nuovo new entrant in questo settore come pensate di diciamo fare i risultati che vi siete comunque prefissati come pensate di aggredire questo mercato nel 2023 avete qualche strategia commerciale particolare anche diciamo in fase di recruiting prima hai citato 50 vostri agenti sul territorio dentro il 2023 è comunque un bel numero quindi come siete appetibili voi per un agente ci puoi raccontare quello che è possibile certo grazie di questa domanda noi dobbiamo lavorare Marcella in profondità con le agenzie della Banca Popolare di Sondrio e quindi facendo in modo che il prodotto entri sempre di più così come abbiamo iniziato a fare molto bene nel 2022 e così come siamo già partiti come ha detto anche il consigliere delegato nel 2023 dobbiamo lavorare invece in larghezza e in altezza per quanto riguarda la nostra rete di Presti Nuova e la nostra rete agenziale che è il nostro progetto Core avere una capogruppo alle spalle solida di grande reputazione oggi io credo che sia un elemento distintivo oggi per un collaboratore entrare in Presti Nuova per un agente essere agente di BNT significa essere far parte del gruppo Banca Popolare di Sondrio e questo è molto importante al punto che la nostra rete agenziale e la nostra rete dei collaboratori potrà distribuire accanto alla cessione del quinto esattamente da fra una settimana fra dieci giorni il conto corrente il prestito personale il mutuo ipotecario della Banca Popolare avrà un bel portafoglio prodotti avrà un bouquet di prodotti che comincia ad allargarsi per poter dare una completezza di servizio alla persona e peraltro anche questi servizi tutto in modalità digital quindi uno sforzo che è stato fatto importante ma siamo arrivati ad un buon risultato lo presenteremo nelle prossime ore alla nostra rete di agenti e collaboratori però non finisce qua vogliamo ulteriormente andare avanti nel completamento dell'offerta commerciale per i nostri agenti e collaboratori abbiamo nel gruppo anche una società di renting rent to go e quindi riteniamo che entro il primo semestre si potranno anche distribuire i prodotti di renting nel mondo dell'automotive accanto poi al TFS e ad altre novità che ci saranno quindi un programma certamente interessante corposo ma soprattutto di grandi opportunità per la nostra rete attuale di collaboratori di agenti ma soprattutto prospettica certo anche per coloro che magari stanno cercando magari si guardano intorno per cercare delle nuove opportunità quindi stiamo riassumendo insomma già il lucro del 2023 vi caratterizzerà per una maggiore efficienza operativa perché avete fatto investimenti appunto sul digital un'ampia offerta prodotti quindi insomma i vostri agenti avranno tutti diciamo una gamma di offerta competitiva per andare a colpire diversi bisogni dei clienti anche target diversi di clienti quindi questo implicherà anche credo una grande formazione perché assolutamente è obbligatoria passo assolutamente necessario da questo punto di vista abbiamo tappe già prefissate cadenze molto precise con le quali erogheremo ore di formazione in modo che poi i nostri collaboratori e agenti siano pronti preparati per poter rispondere alle esigenze come hai detto tu come dire a tutto tondo che i clienti possono avere ecco un'ultima domanda che magari potrebbe essere di interesse per coloro che ci stanno ascoltando voi avete un dei profili particolari di agenti che volete avvicinare oppure oppure no cioè valutate di volta in volta ma guarda non ti nascondo che in questo momento come dire i telefoni stanno squillando il momento come è stato detto è particolare l'offerta e la proposizione di BNT della serietà della banca popolare di Sondrio e della sua banca e della sua fabbrica prodotto sono elementi che oggi pesano in un contesto di questo tipo noi guardiamo ad agenti e collaboratori seri che abbiano pensiamo a relazioni auspicabilmente di lungo corso e quindi cerchiamo di poter individuare come dire prospettive comuni per poter lavorare con serenità con determinazione forti del nostro brand e ci auguriamo come dire di piacerci entrambi perché evidentemente quello è la formula è il segreto vincente se questo equilibrio non si trova evidentemente i rapporti saranno destinati a durare ben poco bene bene grazie a Gianluca grazie a Umberto Seretti per essere collegato qui oggi con noi è veramente una bella energia che è proprio intorno a questa BNT complimenti davvero grazie Marcella ora per me è un piacere lasciare la parola al collega Alberico Imbriano apriamo ora un nuovo talk show un talk show dedicato a come supportare le banche territoriali nel vendere prodotti come la cessione del quinto e i prestiti personali per affrontare questo argomento ho il piacere di avere ospite con me nei nostri PLTV Studios Armando Cinicola che è responsabile banche di Sella Personal Credit al quale do il benvenuto buonasera piacere piacere mio e ho in collegamento con noi oggi il dottor Stefano Felici che è referente e product manager per quanto riguarda la cessione del quinto leasing TFS e prestiti personali di Banca Cambiano benvenuto dottor Felici buonasera buonasera e grazie mille dell'invito primissima domanda per lei allora la partnership tra Sella Personal Credit e Banca di Cambiano è iniziata nel 2018 con la distribuzione come si diceva del prodotto della cessione del quinto nel 2021 la partnership è stata sia ulteriormente consolidata con l'ampliamento della gamma di offerta affiancando appunto la cessione del quinto anche i prestiti personali ecco dottor Felici ci può dare qualche dettaglio in più sulla vostra partnership e illustrarci qual è il valore aggiunto per la vostra banca derivante dalla collaborazione con Sella Personal Credit certo allora diciamo che l'inizio di questa storia parte a metà del 2017 quando io entro in Banca di Cambiano dopo un'esperienza ventennale in Compass Mediobanca la mission che mi veniva affidata era quella appunto di implementare all'interno della struttura bancaria della rete bancaria una serie di prodotti retail che al momento venivano distribuiti unicamente tramite le filiali quindi diciamo che la sinergia nata con Armando Cinicola è stata una sinergia che è venuta spontanea e che grazie ad un'attività svolta a quattro mani ha portato a far sì che inizialmente sia stata inserita a catalogo la cessione del quinto quindi la distribuzione della cessione del quinto che ha fatto sì che in molti casi questo anche per rispondere alla sua domanda una banca territoriale che fino allora si trovava solo ed esclusivamente nelle condizioni di rispondere alle domande del cliente adesso iniziava a proporre un prodotto quindi eravamo eravamo noi ad essere proattivi la filiale bancaria ad essere proattiva nei confronti del cliente a proporre la possibilità di sottoscrivere una cessione del quinto questa attività che è iniziata e che ha portato ottimi ottimi risultati in termini di produzione ha fatto sì che la sinergia con Sella Personal Credit si stringesse sempre di più e diciamo così che è stato naturale poi che a luglio del 2021 si sia pensato di stringere un ulteriore accordo in questo caso per quanto riguarda i prestiti personali naturalmente la produzione e l'impatto sulla rete è stato estremamente più rilevante in termini propriamente di numeri ma ha portato ancora più soddisfazione perché anche in questo caso la banca si è dimostrata come dicevo in precedenza proattiva nei confronti della propria clientela andando a proporre un prodotto che anche anche se più da sportello ma che comunque sia fino a quel momento nell'idea di banca territoriale era servito al cliente solo ed esclusivamente dietro specifica richiesta appunto del cliente stesso e non dietro proposizione da parte della filiale termino dicendo che questa sinergia ha fatto sì che a luglio anzi a giugno del 2022 in pratica la sinergia fra Sella Personal Credit e Banca Cambiano si sia cambiata nei ruoli cioè Banca Cambiano che fino a quel momento è stata distributrice di prodotti di Sella Personal Credit ha stretto un rapporto inverso con Sella Personal Credit tanto che la rete di Sella distribuisce il prodotto anticipo TFS e TFR che invece è un prodotto specifico della nostra banca Perfetto grazie grazie dottor Felici due aspetti mi hanno colpito del suo intervento il primo parto proprio dalla fine dicendoli che nel 2022 poi i ruoli si sono invertiti con voi che siete diventati praticamente la fabbrica prodotto e Sella che è diventato il distributore mi sembra un'ottima sinergia anche che va proprio a completare quello che è un rapporto di partnership iniziato nel 2018 l'altro aspetto che mi colpiva è la sinergia con Sella l'opportunità che vi ha offerto anche Sella è quello di avere un approccio proattivo con i vostri clienti quindi incrementare ulteriormente il valore della consulenza che voi potete offrire alla vostra clientela e qui mi ricollego andando a te Armando perché sicuramente gli ultimi due anni sono stati due anni che possiamo definire complicati e forse siamo riduttivi nei termini quello che sicuramente è venuto fuori è che la consulenza è sempre più fondamentale per andare a gestire poi il cliente anche il cliente che è magari più digitalizzato ma cerca sempre comunque un rapporto con il consulente e come dicevo la consulenza è solo uno dei tanti ambiti in cui la pandemia l'evolversi della situazione geopolitica e tutto quello che è stato il 2022 ha impattato sugli aspetti del business ecco in questo contesto di mercato siamo all'inizio del 2023 praticamente da un mese e mezzo è iniziato il 2023 quali saranno poi i prossimi passi cosa dobbiamo aspettarci dall'evoluzione del canale banca e partner da parte di Sella Personal Credit quali banche potrebbero trovare vantaggi nel vostro modello allora sì sì assolutamente ecco ringrazio Stefano con il quale abbiamo costruito appunto un prodotto la sessione del quinto per poi sfociare nel 2021 con reciproca soddisfazione nel prestito personale e poi penso che Ciliegina sulla torta sia appunto costruire un nuovo prodotto l'anticipo TFS distribuito sulle nostre reti quindi significa che la collaborazione è più di una partnership ma è appunto ha avuto un effetto sinergico davvero importante questo ci ha permesso anche lato nostro di efficientare i processi e di raggiungere oggi un livello di servizio davvero eccellente per quanto riguarda diciamo il segmento del canale banca se la Personal Credit ha le idee chiare quello che vuole fare è porsi e affiancare le banche che cercano di affermare una propria brand identity soprattutto nella ricerca di un partner di alto standing per poter distribuire prodotti e servizi alla propria clientela soprattutto nella cessione del quinto nei prestiti personali ma qui aprirei una parentesi importante nel prestito web perché molte banche soprattutto nel segmento che interessa a noi quindi parlo di popolari casse di risparmio piccole SPA le famose banche less significant hanno fatto dei forti investimenti sui conti correnti online ecco quindi potrebbe essere un'opportunità per un cliente di una banca piccola che vuole un'esperienza totalmente digitale ecco essere affiancato da sella personal credit in questa parte soprattutto che si porrà appunto come fabbrica prodotto in affiancamento alle banche quindi in qualche modo andrà anche a valorizzare gli investimenti che le stesse banche hanno fatto sul web quindi penso che sia uno dei prodotti più importanti per il 2023 dall'altra per banche che ricercano anche un maggiore sviluppo in altre aree di business potremmo offrire anche il nostro credito finalizzato e a pago per i merchant il problema oggi delle banche è allargare la base clienti allargare la base clienti e differenziare il più possibile il canale di acquisizione dei clienti e delle pratiche questo perché necessitano appunto di ricavi da servizi e ovviamente allargando la base con più opportunità e più servizi ci immaginiamo ecco che possa portare anche dei benefici di conto economico nonché soddisfare tutte le esigenze dei propri clienti proteggendoli ed evitando ecco che vadano e migrino verso altre orizzonti quindi il nostro il nostro il nostro modello prevede questo un affiancamento soprattutto nell'attività di formazione alle succursali l'inserire un help desk a supporto della lavorazione dell'istruttoria delle pratiche che arrivano da parte delle banche altro aspetto molto fondamentale inteso come facilitatore di processo affiancarli ovviamente in tutto lo sviluppo della strategia commerciale della banca ovviamente con tutti gli strumenti che noi mettiamo a disposizione qua ad esempio una reportistica dedicata mirata e personalizzabile a supporto della direzione commerciale della banca anche perché oggi ricavi da servizi diventano sempre più importanti e questo oltretutto protegge queste banche sicuramente anche dal rischio credito ma negli ultimi mesi direi anche dal rischio tasso che è sicuramente un argomento molto sensibile con dei ricavi da servizi che si possono portare tranquillamente a conto economico quindi il nostro segmento saranno le banche piccole popolari casse di risparmio piccole SPA che vogliono anche affidarsi a un partner che possa sostenerli nei prodotti di terzi soddisfando appieno quelle che possono essere le esigenze dei clienti sul territorio permettendo che anche noi come banca abbiamo una particolare attenzione al cliente che resta centrale quindi vogliamo servirle in tal senso perfetto allora innanzitutto complimenti per questa vostra partnership che mi sembra sia andando sia funzionando bene io vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicato e per essere stati qui con noi a questa edizione 2023 di Leadership Forum TV Show quindi ringrazio ancora Armando Cinicola responsabile banche di Sella Personal Credit per essere qui con noi oggi grazie a voi ringrazio il dottor Stefano Felici referente product manager cessione del quinto leasing TFS e prestiti personali di Banca Cambiano grazie mille grazie a voi e di nuovo grazie per l'invito continuiamo questo nostro topic di approfondimento dedicato all'evoluzione dell'intermediazione creditizia con le case history del territorio lo facciamo con un talk organizzato da Italcredi io sono contento di dare il benvenuto nei nostri studios a Dario Caprotti agente per Parma Piacenza e Cremona benvenuto grazie do il benvenuto anche ad Andrea Bruto che è agenzia per la Lombardia sempre di Italcredi grazie buongiorno e do il benvenuto a Roberto Crescentini che è responsabile marketing di Italcredi grazie buongiorno benvenuti a voi grazie mille per la vostra presenza qui con noi oggi al Leadership Forum TV Show 2023 ci troviamo appunto nell'ambito dell'intermediazione creditizia nel mondo della cessione del quinto quindi io partirei subito con una primissima domanda per il dottor Caprotti ecco come è cambiato il mercato della cessione del quinto voi che appunto siete agenti quindi avete questa visione anche su come è cambiato per voi intermediari e come Italcredi vi ha supportato nel cambiamento nell'affrontare il cambiamento sicuramente il mercato della cessione del quinto è cambiato tantissimo se pensiamo a cos'era verso la fine degli anni 80 nei primi anni 90 i cambiamenti sono stati veramente tanti e sensibili in questo senso è cambiato il modo di concepire la cessione è cambiata tantissimo anche la quota di mercato che il prodotto di cessione del quinto si è conquistato nel tempo da un prodotto forse di non così grande interesse è diventato un prodotto significativo che ha riscontrato sempre più interesse da parte dell'utenza un grosso cambiamento è dovuto anche all'allargamento importante nella platea degli utenti da quando è intervenuta la cessione del quinto della pensione che ha coinvolto altre decine di milioni di interlebutori in questo senso che ti rappresenta poi la fetta più consistente di questo business all'incirca il 60% esattamente l'intervento di Talcredi che è una società storica della cessione del quinto è stato determinante è stato determinante perché Talcredi ha avuto la capacità di intercettare questo cambiamento e di rendere e di intervenire sul prodotto in modo da renderlo sempre più attuale sempre più rispondente alle esigenze di una clientela che cambiava nel corso degli anni andando a toccare gli aspetti anche assicurativi che sono legati al prodotto per cui oggi come oggi la cessione del quinto della pensione per esempio è uno dei prodotti che riscuote maggior successo nel mercato finanziario proprio per le caratteristiche che sono state date il prodotto e la sicurezza che è stata data ai clienti di questo prodotto Perfetto mi permetto di aggiungere alla sua analisi che se vogliamo è stata anche una riabilitata molto la cessione del quinto come forma di finanziamento oggi è una forma di finanziamento al pari del prestito personale magari prima in passato veniva considerata l'ultima spiaggia per chi non riusciva ad accedere al credito in maniera convenzionale chiamiamola così è stato sicuramente così lei ha ragione diciamo che oggi come oggi il prodotto ha sicuramente una sua dignità è un prodotto interessante è un prodotto vantaggioso è un prodotto che risolve i problemi Perfetto grazie mille dottor Caprotti prego dottor Bruto le faccio questa domanda perché lei è un agente che ha una storicità che è già presente sul mercato della cessione del quinto ma da poco è entrato a far parte della famiglia di Italcredi possiamo definirla così ecco cosa cerca oggi un agente in attività finanziaria nel rapporto con la propria mandante quali sono le sue necessità e quali sono in questo caso i fattori di attrattività di Italcredi Innanzitutto buongiorno ancora grazie innanzitutto volevo ringraziare Italcredi la direzione e il dottor Crescentini che mi hanno invitato qui a questa questa intervista per quanto mi riguarda posso dire che ho concentrato la ricerca di un nuovo partner nell'ambito ovviamente di società storicizzate leader nel settore ma che avessero diciamo così a mio giudizio delle peculiarità importanti quali professionalità celerità e condizioni oltre ovviamente a essere d'accordo con quello che diceva il collega Dario per quanto riguarda tutto l'aspetto evolutivo che il prodotto ha subito negli ultimi anni oggi come oggi in un mercato finanziario estremamente selettivo estremamente articolato avere a che fare con una società leader del settore capace di creare i presupposti continui per lavorare bene ha fatto sì che io concentrassi appunto la mia attenzione sui talcredi entrato nel mondo in talcredi da pochissimo devo dire che queste mie diciamo aspettative sono state subito confermate e per quanto riguarda poi implicitamente la necessità di un agente vi è quella di poter mettere a disposizione dell'utente e del consumatore finale un prodotto e talcredi ce l'ha un prodotto snello un prodotto di facile utilizzo e soprattutto oggi come oggi a condizioni anche interessanti perché perché da sempre le condizioni sono sono importanti e anche nel mondo della cessione del quinto le condizioni proprio perché come si diceva sta evolvendo come prodotto è similabile come diceva bene lei a un prestito personale anche le condizioni hanno la loro importanza quindi ho veramente concentrato questa mia scelta su questi aspetti su questi elementi e sono assolutamente soddisfatto perfetto bene dopo aver ascoltato la voce della rete passerei a questo punto alla mandante ai talcredi quest'oggi rappresentata dal suo responsabile marketing Roberto Crescentini Roberto cosa dobbiamo aspettarci dai talcredi nel 2023 quali sono un po' i vostri obiettivi e le azioni che metterete in campo per l'anno che è praticamente appena iniziato da un mese e mezzo bene allora intanto ringrazio per le belle parole i nostri due esponenti il mercato lo sappiamo è abbastanza difficoltoso veniamo da un 2002 abbastanza interlocutorio e anche il 2003 così nella sua ripartenza più o meno sta portando avanti il filo conduttore del 2022 i talcredi ecco dal punto di vista della rete agenziale noi ci stiamo focalizzando moltissimo in azioni commerciali a supporto della rete commerciale quindi quest'anno abbiamo portato abbiamo intrapreso un nuovo percorso di lead generation in house quindi all'interno di talcredi e su questo contiamo tantissimo proprio per dare un supporto continuativo alla operatività delle nostre agenzie per quanto riguarda poi le attività commerciali che noi stiamo portando avanti proprio per andare a incrementare anche la base agenziale che il talcredi vorrà avere alla fine del 2023 ecco stiamo portando avanti un progetto importante di accademia attraverso la quale noi daremo l'opportunità anche nuove agenti in affari finanziari a nuove persone che vogliono intraprendere questo percorso lavorativo il talcredi metterà a disposizione la sua esperienza la sua struttura e le sue possibilità proprio per creare un percorso assieme a queste nuove figure quindi oggi non è un caso che ci sia un agente ormai storico con noi proprio che ci ha raccontato quello che ha trovato il talcredi negli anni ma anche soprattutto un agente di nuova entrata proprio perché il nostro obiettivo è questo è fare creare una uniformità operativa con tutti e dare un spazio e supporto a tutti proprio da questo punto di vista sappiamo ovviamente che il mercato è difficile è sempre più concorrenziale e quindi il talcredi è sicuramente a fianco della nostra rete proprio per dare il massimo e cercare insieme di raggiungere obiettivi importanti perfetto grazie mille Roberto siamo arrivati alla conclusione di questo nostro interessante talk e approfondimento dedicato appunto al mondo dell'intermediazione creditizia quindi io ringrazio ancora Roberto Crescentini responsabile Martini di Talcredi Dario Caprotti che è l'agenzia della Parma Piacenza e Cremona e Andrea Bruto per l'agenzia della Lombardia grazie 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 a tutti grazie al Brico siamo in studio con il dottor Massimo Garlini direttore commerciale di Prestito Felice buongiorno dottor Garlini buongiorno buongiorno a tutti Prestito Felice Award 2022 nella categoria Innovation per le innovazioni tecnologiche quinto hero e rating hero a supporto dei consulenti del credit prima domanda dunque d'obbligo cosa state facendo quali innovazioni dobbiamo attenderci affinché possiate vincere anche l'Award 2023 del Leadership Forum Prestito Felice ha investito in tecnologia insomma da molti anni investe in tecnologia da moltissimi anni oltre dieci anni con un software proprietario che è appunto denominato quinto hero quinto hero è uno strumento unico nel suo genere nel panorama italiano diciamo dei player della cessione del quinto pochi hanno dei software proprietari e pochi ne hanno proprietari verticalizzati per la cessione del quinto come abbiamo noi quinto hero appunto è una suite di servizi per il consulente per permettergli di lavorare nel miglior modo possibile con la massima efficienza la massima velocità e cercare di gestire tutte le fasi della pratica della trattativa della gestione totale diciamo del cliente in modo eccellente partendo diciamo il quinto hero permette di gestire gestisce tutta la parte di acquisizione della clientela essendo connesso con i principali social network dove la nostra azienda fa advertising per passare alla gestione della pratica della trattativa quindi tutto il rapporto con il cliente viene gestito sempre all'interno dello stesso applicativo per poi arrivare alla parte di finalizzazione dell'attività e quindi la messa in contatto con gli istituti bancari e finanziari con cui operiamo anche qui interconnessi fra loro per cui con un rendimento altissimo in termini di velocità e di efficienza Rating Hero è invece l'ultima nata diciamo in casa prestito felice ed è uno strumento che abbina due tecnologie già esistente diciamo un lettore di OCR e una tecnologia appartenente al perimetro dell'intelligenza artificiale senza specificare nel dettaglio che cosa visto che l'intelligenza artificiale è un perimetro molto ampio di tecnologie e questo strumento permette attraverso la lettura dei documenti quindi anagrafici e reddituali di dare dei suggerimenti al consulente che sta trattando questi documenti e quindi il cliente permette di elaborare e verificare i criteri acquisitivi delle banche e delle assicurazioni quindi un ulteriore supporto per il consulente e terza e ultima attività che ad oggi fa questo strumento è l'inserimento automatico dei dati all'interno dell'applicativo Quinto Hero appunto per la fase di caricamento sul nostro portale oltre a migliorare diciamo l'attività di consulenza dei nostri collaboratori miglioriamo sensibilmente intanto la precisione nell'inserimento di dati riduciamo il tempo di lavorazione nelle pratiche e permettiamo al consulente di concentrarsi sugli aspetti commerciali che dovrebbero essere diciamo le principali attività che ogni consulente debba fare questo strumento per noi è un passo in avanti importante non solo perché automatizziamo moltissimi processi ma soprattutto perché liberiamo il tempo ai consulenti in modo da farglielo dedicare alla vera consulenza commerciale con il cliente che è un po' l'attività che ogni mediatore e quindi ogni consulente dei mediatori dovrebbe poter fare è l'attività principale complimenti per queste implementazioni che avremo modo poi immagino di valutare anche nel corso del 2023 però vorrei voglio fare adesso un piccolo salto indietro per avere un avvio di mercato perché allora nel 2022 ci siamo lasciati indietro questo strascico del covid a inizio anno poi sono subentate delle nuove criticità hanno preso il posto la guerra in Ucraina il rialzo dei prezzi delle materie prime il caro energia l'inflazione i tassi di interesse e sono tutte piccole bombette a scoppio ritardato che i loro effetti li fanno sentire un pochino indifferita qualche analista dice di averli già visti nell'ultimo trimestre del 2022 dove c'è stato un piccolo rallentamento in alcune forme di prezzi dal punto di vista della domanda qualche piccolo criterio un pochino più stringente sono un po' degli oroscopi quelli che si fanno all'inizio anno per il proseguio del 2023 oppure effettivamente c'è questo rischio di una frenata diciamo del credito contando che comunque il comparto viene da una situazione di solidità almeno così dicono gli operatori molto forti in grado di resistere insomma a questa volatilità a queste turbolenze lei cosa ne pensa? penso che ovviamente stiamo assistendo a una stagione totalmente nuova rispetto al passato noi veniamo da circa 3-4 anni di tassi zero in alcuni casi anzi praticamente in tassi negativi questo da un certo punto di vista ha spinto la domanda perché ovviamente i tassi bassi hanno fatto sì che le persone potessero accedere diciamo accedere al credito anche in modo un po' più facilitato proprio in virtù dei costi più bassi non torneranno più quei tassi tra l'altro i tassi non torneranno più diciamo che quello che abbiamo vissuto è stata una situazione straordinaria la situazione ordinaria è che il tasso di approvvigionamento del denaro deve essere prezzato e quindi non può essere prezzato né a zero né in modo negativo nel comparto cessione allora questo è un aspetto che abbiamo visto in tutti i mercati e riguarda tutte le attività a livello mondiale nel comparto cessione del quinto ahimè ci siamo comportati in modo un po' diverso perché nonostante ecco i tassi zero avevano un impatto su tutti i prodotti noi abbiamo continuato e negli ultimi insomma nel corso del 2022 si è continuato a lavorare a un prezzo molto basso quindi sia erogatori sia intermediari diciamo ci siamo confrontati su tassi molto molto bassi e questo ha avuto secondo me un grande effetto negativo a perché si è andato un po' a piggiorare diciamo la percezione da parte del cliente rispetto alla professionalità degli intermediari che devono avere intermediari e non solo e oggi con l'aumento dei tassi di interesse quindi il suo riferimento all'ultimo trimestre 2022 di fatto è il momento più evidente in cui si sono altati i tassi di BCE però se consideriamo i tassi di riferimento con cui si collocano i prodotti cessioni del quinto questo innalzamento del tasso si vinceva già da inizio del 2022 per cui non è una sorpresa che il tasso anche sulla cessione del quinto debba aumentare necessariamente noi siamo fra virgolette contenti che i tassi di interesse stiano aumentando perché questo potrebbe portare secondo la nostra analisi a un miglioramento del mercato a un risanamento del mercato perché i fattori che noi reputiamo principale quindi la trasparenza la professionalità la serietà degli operatori stessi possa essere messa al centro nel rapporto con il cliente diversamente quello che abbiamo visto in passato che a me vediamo ancora probabilmente per poco in questi mesi è un confronto col cliente quindi un rapporto col cliente basato solo esclusivamente sul prezzo questa dinamica snatura l'attività stessa dell'intermediario che non vende un prezzo ma vende invece un servizio un prodotto al cui interno poi ovviamente esiste il fattore prezzo come in qualsiasi mercato di riferimento noi nel 2019 quindi anche prima del momento covid che è stato un po' un giro di boa per tutti diciamo un bivio importante per tutte le aziende in tutti i settori noi già da lì dal 2019 avevamo iniziato a diversificare le nostre attività di business andando anche in settori totalmente diversi rispetto a quello della migrazione in creditizia perché già da lì si vedeva una stagnazione diciamo un po' del mercato e un depreciamento del prodotto cessione del quinto che è sempre stata l'attività core ecco mi scusi se la interrompo proprio perché l'ultima domanda volevo fargli la proprio sul mercato particolare della cessione del quinto lo diceva anche lei sembra un po' stagnante non ha evoluzioni picchi come gli altri settori del credito ed è necessario andare ad acquisire nuova clientela perché ci sono delle fette di mercato ancora aggredibili Prestito Felice cosa sta facendo per invertire questa tendenza e per andare a cercare nuovi clienti Allora Prestito Felice sta cercando sta mettendo in atto delle politiche commerciali nuove volte a cercare nuova clientela in ambiti diversi rispetto a quello che è un po' il bacino della cessione del quinto che per per chiarezza di dati insomma vale circa il 10% del credito al consumo in Italia se consideriamo che all'interno della cessione del mercato la cessione del quinto esistono moltissimi operatori sia intermediari erogatori banche finanziarie lo entri anche il mercato non cresce quanto dovrebbe non cresce rispetto agli altri prodotti del credito al consumo ma ahimè ci sono delle crescite o delle decrescite di operatori più o meno grandi intermediari banche in questo caso o anche intermediari come noi ma la fetta resta la stessa ma più o meno il valore del mercato assoluto stenta a crescere come invece dovrebbe e questo è determinato diciamo da molteplici fattori noi pensiamo che uno dei fattori principali sia proprio quello a cui accennavi tu ovvero che il mercato si basa su un 40% di rinnovi degli stessi clienti quindi un portafoglio che negli anni si continua a rinnovare che è sicuramente lo zoccolo duro del mercato ma che tende a subire poi il problema di cui abbiamo parlato prima quindi un depreciamento generale del prodotto perché chiaramente si tende a competere sul rinnovo solo esclusivamente sul prezzo e meno sul servizio l'unica strada che noi vediamo è quella di aprirsi e cercare di rendere appetibile il prodotto anche a clientela che oggi non sta nel mercato dell'accessione del quinto ma nonostante questo si finanzia con altri prodotti vero che i prodotti diciamo fra loro se parliamo di finalizzato prestito personale e cessione del quinto sono molto diversi fra loro ma è vero anche che non esistono altre strade per quello che pensiamo noi se non questa cioè se non andare a cercare la clientela in questi bacini di clientela che numericamente sono molto più alti sia in termini di volumi e sia soprattutto in termini di numero di clienti che accedono a questo tipo di servizi noi vediamo un altro problema che potrebbe scaturire dalla non ricerca di clientela verso altri mercati ovvero se noi consideriamo che negli anni diciamo dal 2019 fino ad oggi per via delle problematiche di cui abbiamo parlato prima si è venduto un prodotto a un prezzo molto molto basso con dei tassi di riferimento negativi o vicini allo zero quel 40% di operazioni che sono state fatte in questo triennio appena passato al momento del rinnovo potranno diciamo subire l'aumento dei tassi di interesse e quindi potrebbero slittare in anni in avanti quindi noi vediamo nel triennio tra il 2024 e il 2026 quindi 2024 2025 e 2026 una riduzione di quelle pratiche che in teoria potevano essere rinnovate perché a scadenza del 40% ma ahimè probabilmente non potranno essere rinnovate perché il tasso di interesse nel 2024 2025 sarà molto più caro rispetto a quanto quella pratica era stata fatta all'origine questo secondo noi è un problema ulteriore che ci porta a guardare al di fuori del mercato dell'accessione del quinto per cercare clientela nuova a cui proporre ovviamente i nostri servizi con un livello di consulenza molto alto per tutto quello che insomma ci siamo detti certo diversificare quindi insomma facciamo i nostri auguri naturalmente in questa ricerca di nuova clientela avremo modo di riaggiornarci per sapere come è andata intanto ringraziamo molto il dottor Massimiliano Garlini direttore commerciale di Prestito Felice grazie grazie a voi bene e siamo all'ultimissima intervista di questo Leadership Forum TV Show quella che chiude questi due giorni che abbiamo avuto di interviste addirittura 70 interrogatori abbiamo ascoltato 30 i talk show e Dulcis in fundo chiudiamo con Andrea Pennato direttore generale di Premia Finance che abbiamo in collegamento buongiorno Andrea buongiorno a voi buongiorno a voi grazie dell'invito neo direttore in realtà di generale di Premia Finance possiamo dire ancora neo dopo appena due mesi di mandato ti consideri ancora neo direttore generale dire assolutamente sì ecco anzi ho veramente appena iniziato a mettere un piede nella porta ecco tra gli obiettivi di questo mandato che ha appena cominciato l'hai detto anche alle agenzie di stampa quello di trasformare una società che è specializzata nella cessione del quinto in una rete realmente multiprodotto multicanale dunque allora adesso è cominciato il 2023 entra nel vivo la tua attività dobbiamo attenderci lo sviluppo di nuovi comparti aziendali nuovi modelli di business durante quest'anno assolutamente sì diciamo le basi le abbiamo già messe stiamo ovviamente partendo dalla parte prodotto quindi degli istituti di credito sia per la parte mutuo retail che per la parte dei prodotti e in abbinamento sta partendo anche la business unit assicurativa in realtà premia finance ha di proprietà un broker assicurativo che si chiama premia l'insurance per diciamo che i due sono già pronti quindi sia per quanto riguarda la parte di back office che per quanto riguarda la parte di processi come tempistiche pensiamo di in un paio con entrambe le business unit quindi mutuo retail aziendale e in abbinamento l'assicurativo per diciamo speriamo per maggio giugno di essere pronti ecco daremo notizie naturalmente su PLTV di queste novità che vi attendono durante l'anno due passi importanti invece l'anno scorso per premia finance il passaggio in borsa al segmento principale del mercato Eronex Group Milano aperto agli investitori al dettaglio e l'acquisizione di prestito più che tra l'altro vi è balzo anche la Word del Leadership Forum per le operazioni societarie dunque azionariato diffuso ed espansione territoriale e di prodotto quali obiettivi vi ponete a medio e lungo termine? Allora come ho detto prima gli obiettivi sono di assolutamente di crescita e di diversificazione ho parlato prima di quella che il nostro diciamo il nostro percorso che vorremmo fare internamente quindi di crescita su i prodotti diversi prodotti ecco ovviamente non abbandoneremo il core business che è la cessione del quinto ma andremo a fare anche mutui retail e andremo a fare anche finanziamenti aziendali come dicevo abbinati all'assicurativo questo è il progetto di crescita interna un altro prodotto diciamo in abbinamento che vogliamo sviluppare è quello del noleggio a lungo termine anche questo magari soprattutto nella seconda parte del 2023 fatta questa crescita interna diciamo in abbinamento noi stiamo comunque sempre valutando con il nostro advisor possibili ulteriori acquisizioni quindi la prima è stata quella di presto più che fondamentalmente è un piccolo operatore qui sardo sempre specializzato nella cessione del quinto diciamo che le nostre acquisizioni vogliono essere soprattutto in questo mercato delle acquisizioni da grossista diciamo quindi noi non vogliamo andare a prendere delle società per fonderle in premia e togliere le loro caratteristiche per esempio presto più ha una modalità operativa abbastanza differente da quella di premia finance che si basa fondamentalmente sulla rete invece premia più lavora più a distanza ecco lavora molto di più con il telefono e quindi da questo diciamo come abbiamo fatto con presto più vorremmo anche con altre società trovare dei modelli un po' diversi per creare delle sinergie e da questo punto di vista ripeto sia sulla cessione del quinto che sugli altri prodotti quindi una cosa non esclude l'altra creare che sta in te tramite questa la possibilità di fare acquisizioni ecco le acquisizioni noi pensiamo di farle su altri mediatori creditizi oppure anche su eventualmente su società fintech o che fanno lead generation ecco hai anticipato quella che voleva essere proprio la mia ultima domanda il fintech che è un argomento che è tornato più volte nel corso di questa due giorni del leadership forum tv show un orizzonte ineludibile per per i player per gli attori del mercato per tenersi al passo con i competitor ma anche per venire in conto alle crescenti esigenze della clientela in termini di rapidità e semplicità delle operazioni voi sul settore degli investimenti in digitale in tecnologia cosa avete in serbo allora io vengo da un'esperienza di 21 anni in gruppo mall quindi diciamo che di di fintech qualcosa ne capisco dalla mia esperienza posso dire che il cliente finale è uno quindi come arrivarci è solo un canale ma l'importante è che il servizio al cliente sia fatto nel miglior modo possibile o soprattutto come lui preferisce quindi io credo molto in quello che è un termine che non mi piace molto però chiamiamolo figital quindi un mix che deve essere sia diciamo digitale e sia fisico in questo caso è il cliente che sceglie quindi gli esperimenti che stiamo facendo sono questi deve essere che incontrare un contratto lo farà così se invece preferisce farlo a distanza lo farà a distanza ecco questo è un po' il modello che vogliamo perseguire per quanto riguarda il tema degli investimenti anche qui torno a quello che stavo dicendo prima sia delle soluzioni interne che in piccola parte stiamo già testando sia delle soluzioni esterne quindi diciamo società che già fanno questo tipo di attività che possano abbinarlo a quello che è il nostro modello di servizio grazie mille ancora del tuo contributo di essere stato con noi e ci risentiremo sicuramente presto grazie a voi e buon lavoro e con Andrea Pennato direttore generale di Premia Finance si chiude ufficialmente il Leadership Forum TV Show ora non restano che i saluti siamo arrivati al termine di questo TV Show è stata un'esperienza devo dire veramente immersiva se mi consentite perché è stato un sacco di cose TV Show è stato registrazioni giorni e giorni di registrazioni in cui eravamo in questi studios così belli ma alla fine anche un po' impegnativi e sono state registrazioni anche importanti è stato bello vedere persone che sono molto rilevanti per questo mondo per questo mercato mi piace pensare che questo sia stato un format un po' nuovo e vorrei definire il TV Show che pure arriva al sedicesima edizione che prima era un convegno vorrei definirlo un progetto un progetto che deve crescere e deve svilupparsi quando insieme a voi quando lo riterrete opportuno quando lo riterremo opportuno trovandoci in questo mondo in questa bolla degli studios oppure anche di presenza magari che ne so a Roma a Milano nelle altre location io credo io credo Leadership Forum con questo format del TV Show debba crescere e debba diventare sempre più un riferimento per il mondo di riferimento proprio questo un mondo dell'accessione del quinto della mediazione dei mutui degli agenti di attività finanziaria noi vogliamo essere per tutti voi veramente un momento di riflessione quindi grazie a tutti per questa bellissima due settimane perché è due settimane che siamo qui con voi due settimane di lavoro grande intenso produttivo due settimane che secondo me lasceranno il segno e quindi grazie ancora a tutti gli sponsor grazie a tutti i relatori ma soprattutto grazie a coloro che hanno partecipato che hanno partecipato qui con noi in questa bellissima esperienza e arrivederci a quando beh c'è stato un riferimento alla diciottesima edizione e vi lascio dire perché beh pensate voi arrivederci a tutti a tutti i Grazie a tutti. 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 Tutto in due giorni in cui si è parlato di presente e futuro del business sono i numeri del Leadership Forum TV Show 2023 di EMF Group, seguito in esclusiva da PL TV, in onda sulla piattaforma online dell'evento e per la prima volta anche sul digitale terrestre sul canale 63 di GM24. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.